Poi il Mondiale Superbiker di quegli anni era, cioè i piloti erano veraci, cioè incontravi Troy Belis, Troy Corser, cioè gente che veramente, cioè solo quando ti guarda Fogarty, quando ti guardava era, erano gente insomma un po' particolare, no? Kili, no? Tutti i nomi talmente grandi per te che sei piccolo, che ti mettono in difficoltà, io mi ricordo questo paddock enorme, pieno di bilici, di roba fantastica, di hospitality, e io stavo con una tenda buttato dietro ai bagni. Questo è Razers, un podcast di Riccardo Ciotti prodotto da Giaca Pubblicazioni. Se vuoi puoi trovarci anche sui nostri canali social. Buon ascolto. Gioca a PlayStation, Gran Turismo, Gran Turismo, Gran Turismo, io ho detto guarda che io non ci ho mai giocato, cioè, no ma noi giochiamo con le carte, e dice vabbè allora comincia a giocare a me, ma io vado a comprare la PlayStation, perché non avevo proprio la PlayStation. Ok. Alla fine compro questa PlayStation, joystick, poi capisco che ero indietro col joystick, volante, compro la vostra azione, alla fine mi ritrovo a fare questa gara che era una mondiale, quindi una roba serissima, organizzata da una squadra di kart vera, con il Gran Turismo, insomma una serie di cose. E vabbè tanto... E vabbè alla fine riesco a andare veloce con sto kart, comincio a sto campionato, vinco la prima gara, vinco la seconda, vinco la terza, alla fine mi ritrovo a questa finalissima, con uno da un sudamericano, insomma uno da Repubblica cieca, un italiano che era sto Michele 90, c'era sto Michele 90, una leggenda, fin dalle prime volte che se giocava, se giocava a Tsukuba, la sua pista... Classica di Gran Turismo. Esattamente, e sto se girava mi pare che sto Michele riusciva a fare 54 e 8, 54 e 9 senza scia, era una roba pazzesca. E alla fine vabbè mi ritrovo a un finale con questo sudamericano che era il campione del mondo, del Gran Turismo sui kart, sto Michele e io. Insomma, per un po' di strategia, credo che derivante dalla mia carriera vera, vinco questa finale. Vinco questa finale, ovviamente io contentissimo, perché poi c'è una tensione incredibile. Certo, non ti rende conto. Uno non ti rende conto fin quando non fai una gara di... Sembra una gara vera a livello di tensione. C'è Giada che racconta, Giada è mia moglie, e racconta sempre a tutti che... Mi ricordo che in una di queste gare avevamo una torta di mele fatta da mia suocera. E io riuscivo a giocare, ovviamente la sera dopo che mettevo a letto Mattia, che è mio figlio. Arriva Giada con questo pezzo di torta di mele, prima della gara, fa un pezzettino di torta di mele, dicevo no, no, dopo la gara. Dopo la gara. Per intendere, insomma. Sì, no, è stata veramente... Sudata. Sì, sono stati... Alla fine abbiamo giocato 5-6 mesi, non è durato tantissimo, però sono stati 5-6 mesi di grande preparazione. Come ai tempi del mondiale proprio, lo stesso... Anche peggio. Anche peggio. Sudano le mani sul volante. Sì, perché quando fai le corse vere c'è anche uno sfogo fisico, no? Sì. E quindi l'adrenalina dopo la performance scende. Lì no. E lì no. Cioè stai fermo, anzi delle volte c'è proprio anche dei, chiamiamoli, scompensi fisici. Fisici perché hai bisogno di scaricarla. Esattamente, cioè l'adrenalina è alle stelle perché comunque è una gara e come ogni gara che si rispetta è importante, ma dall'altra parte è difficile, no? Perché ti ritrovi a fare un qualcosa che per te, per il tuo vissuto, per il tuo passato stai a giocare. Però in realtà non stai giocando. Non stai giocando. Proprio per niente. Mi sono ritrovato a liricare con bambini a 12-13 anni. Senza rendersi neanche conto. Esattamente. Eh ma perché comunque adesso iniziano a girare anche soldi dietro a... Ormai è un lavoro per tanti... Esattamente. Sono piloti di sport. Esattamente. Sì, vedo abbiamo uno romano, no? Che è... Trust. Sì, Trusteveri 73, non erro. Io l'ho conosciuto. Lui quando aveva vinto il primo mondiale. Esattamente. E ancora era un pochino alla ricerca del... Insomma, è in fiera. Sì. A fiera di Roma. Durante il Moto Days. Si presentò a sto ragazzo, ho fatto... Io avevo lo stand. Mi piacciono le moto, le corse e via dicendo. Parlando col padre, fa no, no, lui è il campione del mondo. Il mondo di MotoGP, se non sbaglio. Ah, ok. L'anno dopo l'ha rivinto, se non erro. Sì, poi è arrivata Yamaha. È arrivata Yamaha, Monster. Sì, sì. Sì, sì. Sì, è fortunatamente ci ha creato una bella carriera. Poi c'è pure il pilota Ducati, che è italiano. Insomma, ce ne stanno ormai. No, no, adesso è seguitissimo, credo. Poi ad oggi stanno facendo veramente... Tantissimi contenuti che interessano le persone. Le persone si interessano a questo, quindi... Ti ricordi sotto Covid quando giocavano i piloti della MotoGP che facevano le gare tutti insieme? Sì. E poi si... E c'erano alcuni piloti che facevano i video che si allenavano con Traste, tipo Vignales e via dicendo. Sì, cercavano aiuto. Aiuto, insegnare la pista per farvi. Sì, sì, assolutamente. Anch'io in un momento così ho provato a giocare a MotoGP e sarò... È impossibile per me. Diciamo che rispetto ai simulatori di auto, le auto vere, il feeling che ti restituisce un joystick... Vabbè, è normale. Insomma, sulle auto hai a disposizione... Puoi fare una postazione. Adesso ci stanno postazioni serissime e sembra che stai in auto. Quindi effettivamente il joystick è un po' indietro. È limitativo per tanti versi. Senti, allora, noi qui, come tutte quante le puntate, i nostri ospiti li invitiamo a cominciare dall'inizio. Ok? Quindi raccontarci un pochino la storia, come si è cominciato... Come hai cominciato ad avvicinarti al mondo delle corse. Per cui, senza allontanarci ora subito dal punto focale, ti chiederei... Come... Innanzitutto, dove nasci? Allora, io nasco a Roma il 28 ottobre dell'89. Da mamma, papà, Paolo e Patrizia. Famiglia normalissima. Papà, macellaio. Mamma, casalinga. Tre sorelle più grandi. Due derivanti da matrimoni precedenti. Sì, da di mio papà che di mia mamma, ma siamo tutti una grande famiglia. Quindi abbiamo sempre abitato insieme e condiviso la nostra famiglia. Sorelle a tutti gli effetti, insomma. Assolutamente. Niente. Nasco... Nasco un bambino vivace. Vivace. Con mia sorella Paola vivace, tanto quanto me. La passione motociclistica nasce un giorno per caso. Perché stavamo scocciando mia mamma dentro casa che doveva fare le pulizie. E mio papà ha deciso di farci fare un giro. Ricordo, su via di Capanelle, mio papà ci aveva questo Mario dei Cavalli. Andavamo ogni tanto a cavallo lì. Ci portava... A perdetempo. A perdetempo un po' così. Andando avanti c'è Torricola. Medica pista romana. L'unica. Di minimoto, esattamente. E da lì abbiamo preso una minimoto in affitto e papà si è rovinato. Si è rovinato. E come è andato il primo giorno? Te lo ricordi la prima volta che... Allora, io personalmente non ricordo. Ho mio papà che mi racconta che abbiamo preso questa minimoto a noleggio per farci un giro sia io che mia sorella. E ci siamo stati tutto il giorno. Alla fine di sta giornata, credo, il papà di Simone Corsi, credo, Stefano, che aveva, non mi ricordo bene, se era socio della pista di Torricola, con mio papà ha detto, guarda che il ragazzino è bravo, riportalo. E da lì è non so più sceso dalla minimoto, sostanzialmente. E quindi tu hai cominciato con le minimoto, come più o meno fanno tutti quanti il percorso. Si, qualche anno fa facevano tutto. Una volta si faceva così. Adesso poco, vero? Adesso poco è un grandissimo peccato, perché le minimoto... Un pilota impara tantissimo da lì. Perché è vero che è una moto piccolina, è vero che è senza sospensioni, è vero, una serie di motivi, ma è una moto complicata. Perché? Perché non ha potenza, perché impari le traiettorie. Ok. Cosa che ad oggi altre moto non fanno, perché hanno già il cambio, vanno piano, hanno il cambio. Parli delle mini GP, le 10-15. No, no, le mini GP già sono moto complicate, magari le moto con cui si parte, si cominci. Ah, ok, ok. Non dico che non sono utili, ma credo che devono essere un passo successivo. Il primo passo per un pilota dovrebbe essere sempre la minimoto. Però purtroppo ad oggi, adesso non sto seguendo proprio benissimo i primi passi. Ok. Però vedo che siamo molto lontani da quello. Ed è un peccato perché comunque… Peccato direi immortale, soprattutto perché i bambini lì, quanto bambini, scusate il gioco di parole, facevano i bambini, quindi è come una scuola calcio. Si divertivano in primi. Esattamente. Ad oggi nella pista di minimoto lo stress è molto basso. Già in una pista più grande lo stress, le aspettative di tutti… È tutto proporzionato. Si, si alzano e questo secondo me non fa bene al bambino, non allo sportivo. Perché prima di diventare uno sportivo, cioè prima di diventare un qualsiasi cosa, un atleta di qualsiasi cosa, sei un bambino, sei una persona, che hai bisogno di crescere, di stare nello sport, che poi sia calcio, moto, basket, qualsiasi cosa, stai nello sport. E probabilmente questa è la parte focale che si sta perdendo un po'. Ed è un peccato. Perché purtroppo ci si approccia sempre con l'intenzione e la speranza e la volontà di diventare un professionista, tralasciando appunto la cosa fondamentale che un bambino appunto… Il mito di… Il mito di… Il mito di… Questo è un grandissimo peccato, perché tutti noi sogniamo qualcosa. Ma su dieci bambini che provano, forse uno riesce. E gli altri nove devono vivere lo sport come sport, ma anche il decimo, cioè anche quello che poi riuscirà. Assolutamente. Deve essere prima di tutto uno sportivo, deve essere un divertimento, deve essere un gioco. Faccio un passo molto molto avanti, la fine della mia carriera, perché è bello parlare dell'inizio del percorso, ma c'è un inizio e una fine. Come in tutte le persone. E ti parlo della fine della mia carriera e di un piccolo aneddoto. Io ho smesso il giorno che mettendomi la tuta e il casco non provavo la gioia di andare a fare quello che è la mia più grande passione. E quindi da quel momento ho detto, cioè la volta dopo che mi sono levato il casco, finito quella esperienza, ho detto. Basta. Basta. Infatti ci si chiede sempre poi cosa passi nella testa di un pilota nel momento in cui inizi a capire, poi c'è chi lo capisce subito, chi ci mette del tempo, chi non lo capisce ed è forzato il sentimento che passa in quel momento. Io ho avuto la fortuna di essere sempre molto veloce e quindi questo che è successo, io nel 2016, vabbè io ho avuto un 2015 tormentato da molti incidenti. Poi dopo ci arriviamo con calma e raccontiamo nel dettaglio. E quindi il 2016 è ancora conducato ufficiale nel Mondiale Superbike, 2017 ho fatto un'esperienza nel BSB che non era la mia categoria. Poi racconteremo anche quella che è una cosa molto interessante. Assolutamente. Mi fermo, dopo la piccola esperienza del BSB decido di fermarmi. Mi chiama Honda nel Mondiale Superbike per la scomparsa di Nike Aiden e accetto. faccio dei buoni risultati, finito l'anno con Honda, dico ok, adesso mi fermo. Io non avevo bisogno di addi di cose, di dire a tutti che io mi stessi fermando sinceramente. La conferenza del ritiro. Sì, per quello che mi riguardava e per come ha fatto Davide non mi serviva. Quindi, semplicemente, mi fermo. 2018 arriva un'altra chiamata che è d'Aprilia, dal team Milwaukee, quindi sempre il team ufficiale, mi chiama e chiede di fare altre gare. Io dentro me pensavo, ma perché? Cioè nel senso, perché mi chiamate a me? Io sto fermo da otto mesi. E sto bene così. E sto bene così, però poi ti chiamano, c'è un fattore importante che al di là della riconoscenza come pilota, perché comunque quando un team pensa a te per sostituire un altro pilota c'è una riconoscenza. E soprattutto mettevano sul piatto dei soldi che per me erano importanti. E' sempre il tuo lavoro, comunque. Esattamente. E quindi alla fine decidi di fare altre quattro gare. Finite quelle quattro gare, dico ok, fermo. Arriva l'altra chiamata, dico all'ultima chiamata, dico ragazzi, io adesso sto fermo. Ho deciso di fermarmi, quindi questo era un piccolo... Che si ricollega benissimo in realtà, hai fatto benissimo, perché quando tu hai perso le motivazioni che probabilmente avevi da ragazzino, che è la gioia, il divertimento... Anche quello che ti porta a fare quel qualcosa in più. Noi facciamo parte di... Facciamo uno sport che è bellissimo, ma è pericolosissimo. Assolutamente. E devi essere cosciente di quello che rischi, ma non devi vivere il rischio come un rischio. Quindi cominciare a pensare al rischio... Vuol dire che è molto... Vuol dire che... Anche perché da casa, facci caso, facci caso. Stai a casa e vedi quei piloti che prendono magari tre, quattro decimi il mezzo secondo al giro, che nella vita non esiste mezzo secondo. Cioè noi stiamo qui parlando, già sono passati qualche minuto, e noi nelle corse per mezzo secondo... Io mi ricordo quando ero nel pieno della mia... Carriera. Carriera, per un decimo credo che vendevo tutto di quello che più caro avevo. Quindi capisci che è tutto spostato. E quando cominci a pensare che quel mezzo secondo non è così tanto, è bene appendere il casco al chiodo. Eh, questo è un processo mentale per assurdo inverso di quello che fanno tanti altri. Eh no, perché poi devi vedere anche come vivi. Cioè io per esempio, abituato a... Con i miei limiti, perché il mio limite non è messo dalla velocità, o essere il più veloce di tutti, o essere il secondo. Il mio limite è quello di non capire dove era il mio livello. Cioè quindi, se ad oggi io potevo... Davide poteva girare in 35, ma l'intero pacchetto era per girare in 35, 5, 35, 4, io cercavo di andare a girare in 34, 9, tu dirai sei stupido. Probabilmente ho vissuto, ho fatto questo errore, capito dopo quegli anni, perché non tutto si capisce subito, mentre stai vivendo quel momento lo capisci con gli anni. E quindi il mio limite è stato quello di non capire dove rallentare, dove terminare una gara terzo, quando magari secondo non lo potevi fare, io magari cadevo. Ho rischiato del mio, però la cosa bella è che ad oggi è rimpianti zero. Che è la cosa più importante. Io ho fatto il massimo di quello che potevo fare. Potevo realizzare qualcosa in più? Sì, forse, ma non è un rimpianto. Non lo cambieresti adesso, insomma, con qualcos'altro. E questa è una cosa bella, perché l'importante è essere contenti e felici di quello che uno ha fatto, e appunto non avere rimpianti. Torniamo indietro. Tu hai detto che hai cominciato le minimoto a Torricola, che sappiamo essere l'unica pista all'interno quantomeno del raccordo, ma anche all'intorno, insomma, di minimoto pure. Insieme a tanti altri piloti, perché comunque... Insieme ai piloti. Ai piloti. Ai piloti. Ai piloti. Chi c'era in quegli anni che correva con te nelle... Allora, ce n'erano i piloti che... Parliamo di gente che adesso, o comunque negli anni poi, è diventato un professionista, se non un campione. Quasi tutti campioni, direi. Quegli anni là ha sfornato... Le minimoto hanno sfornato campioni. Ecco perché dico che le minimoto sono fondamentali. Levando me stesso. Insieme correvamo... Diciamo, la Junior A, B e C, che erano le categorie appunto dei piccoli. Dai sette anni ai dieci anni. O qualcosa di più, adesso non ricordo, dodici, tredici anni, credo. Sì, la Junior si faceva in questi tempi qua. Simone Corsi, Michel Fabrizio, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli. Difficile pure ricordarli, perché praticamente tutti... Praticamente tutto il mondiale, qualche anno prima Marco Melandri, Valentino Rossi. Era veramente... Cioè la griglia della Junior A, Junior B, Junior C. Hanno tutti i nomi... Tutti i nomi... A guardarli adesso... Importanti. Iannone. C'è una gara bellissima su YouTube che... A Spoleto. A Spoleto era sta pista dove... Si faceva quasi sempre il campionato europeo. Su unica tappa. E qualcuno ha messo qualche anno fa sta gara dell'europeo, della Junior A. C'ero io, tanti altri, Andrea Iannone, Roberto Tamburini. Insomma, tanti nomi... Un certo spessore. Di un certo spessore. E questo... Fa capire perché è tanto importante le minimoto. Si, assolutamente. Che cosa stiamo perdendo. Si, si. E io ricordo per quanto... C'era sicuramente tantissima rivalità. Tantissima. Non nego... Sportellate o qualche brutta parola nei paddock. Ma ricordo che eravamo bambini che usavano questo sport per divertimento. Senza doppi fini. In quel momento eravamo bambini che stavano praticando uno sport. Io credo che in queste circostanze siano spesso, anzi nella maggior parte dei casi, più i genitori in realtà che hanno doppi fini o mettono pressioni che... Non tutti, chiaramente. Però il rischio è questo. Io non lo so. Allora, sicuramente il motociclismo ha avuto un'espansione fondamentale e deve essere così. Cioè nel senso che una volta arrivati ai campionati nazionali di livello alto, internazionali, ed è ovvio che tu devi incominciare a... ad averci un tipo di comportamento perché ha a che fare con sponsor, team, tante cose che girano intorno al nostro mondo che devi avere un tipo di approccio. Certamente. Ma quando sei bambino è fondamentale essere un bambino. A me dispiace vedere i bambini 9, 10, 11, 12 anni divertirsi e arriva con il cappellino, l'occhialetto comprato. Perché... Perché non sei sponsorizzato. Non sei sponsorizzato. E fa anche carino vedere il ragazzino con l'occhialetto e quant'altro. Carinissimo, bellissimo. Ma è fuori luogo. Non è il momento. No. Devi abbassare le aspettative. Devi andare a Torricola a divertirti. Quando hai levato il casco devi andare a giocare a calcio con i tuoi amici. O nel paddock proprio. O nel paddock. Sì, ma prendete pure parolacce per una cosa che non hai capito dentro la pista. Cioè, quella fa parte anche della cazzimma di un ragazzino. Della grinta. Della crescita proprio. Della crescita. Va benissimo. Ma sei un bambino che si sta divertendo. Cioè, tutti a partire dai genitori devono aiutare ad abbassare le aspettative del bambino perché poi sennò la frustrazione nella vita è tanta. Esatto. Quando non riesci è tanta e questo tu te lo riporti per tutta la vita. Te lo riporti per un brutto voto a scuola perché tu vai alle corse c'hai l'occhialetto di una nota marca il cappellino piatto c'hai la tutina fatta figa e fai ottavo. In una categoria poi in una categoria senza significato ha il significato in quel momento per te e hai fatto ottavo. Ok, se non hai una famiglia che ti dice hai fatto ottavo. Bravo. Bravo. Ti sei divertito? Cioè la frustrazione diventa tanta e poi questa frustrazione non siamo noi psicologi perché io non faccio lo psicologo anzi però bisogna far capire ai bambini qual è lo sport quali sono i risultati che ci sono dei risultati belli dei risultati brutti che probabilmente senza darparli ideali ma che probabilmente per diventare campione del mondo la strada è iper iper difficile ci vuole tantissimo impegno ma più che l'impegno talento più che talento fortuna più che fortuna soldi più che soldi conoscenze eccetera 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 è un connubio di cose che insomma è la somma che fa il totale in questo esattamente ed è difficilissimo ed è difficilissimo oggi è più difficile di ieri noi un po' per culo se si può dire ci potevamo arrivare e tanti del nostro degli anni 90 sono arrivati un po' per non per culo perché non eri bravo e sei arrivato eri bravo ma ci hai avuto culo che per qualche ragione le circostanze sono lineate sei arrivato a un livello mediamente alto però io ricordo il discorso di mio padre a 14 anni in famiglia da me non è mai mancato niente non eravamo una famiglia ricca ma non è mai mancato niente però mi ricordo mio papà a 14 anni ha detto bello di papà mi hanno chiesto per correre 100 milioni papà a casa non la vende per farti correre quindi se qualcuno le fa correre bene se no smetti è stata è una frustrazione incredibile per un bambino a quell'età soprattutto a quell'età però ho capito che era così cioè non è che che vuoi fare nel senso questa è la situazione e io ho avuto fortuna io probabilmente sono stato bravo a crearmi l'opportunità questo è il momento del passaggio alle ruote alte immagino giusto quindi tu dalle mini moto passi alle ruote alte in questa circostanza che categoria cominci con le ruote alte allora io ho fatto ho corso nelle mini moto per tutta la mia carriera da bambino chiamiamola carriera e in un momento sono passato anche nella moto da cross ho fatto anche un mini cross qualche gara di italiano europeo un mini cross andavo abbastanza veloce tanto è vero che stavo pensando di poi mi sono fatto malissimo e ho capito che il cross non era no non è che non era per me ma non non ero preparato per andavo veloce per istinto ma non per tecnica ok quindi ho cominciato comunque grazie a un team romano mi hanno messo mi hanno dato l'opportunità di fare un anno di 125 gp nel campionale italiano è andata terribilmente male ero veloce ma nella 125 gp due tempi se non avevi tutto il pacchetto il pacchetto perfetto facevi grandissima fatica vedevo piloti molto meno bravi di me ma col pacchetto buono essere competitivi competitivi io ero competitivo a volte però comunque sai ringrazio per quello che hai perché io non c'avevo una lira anzi l'alternativa era non correre viaggiavo viaggiavo col camion dormivo nel camion però va bene così la passione è questa che ti porta a fare l'alternativa era stare a casa quindi ringrazio e vai avanti provi a fare il massimo con quello che hai il massimo con quello che avevo era poco anche probabilmente perché io non ero super veloce in quel momento e probabilmente io con i due tempi non avevo capito bene quella moto quindi finito finito quell'anno avevo visto un po' la fine del mio del mio sogno quando quando invece Danilo Ciatti vecchio preparatore romano vecchio sia perché perché di grande esperienza e anche per la sua età insieme a un'altra persona dei castelli romani hanno messo su sto team con 600 Kawasaki mi hanno detto guarda noi mettiamo su questo facciamo il trofeo Kawasaki e la Coppa Italia mi sono montato su sta moto ho vinto alla prima gara ok dove era la prima gara non mi ricordo credo credo che era Mugello si Mugello qualcosa del genere comunque vincolo la prima gara sto trofeo Kawasaki mi portano a Coppa Italia dove era all'epoca la Coppa Italia era Coppa Italia 600 stock era molto molto competitiva comunque faccio terzo quarto comunque abbastanza avanti ho capito che probabilmente quella era la mia direzione di quattro tempi e poi all'epoca non era una cosa che si faceva cioè metto un ragazzino dei 14 anni perché c'avevo ancora 14 anni che era non avevo quasi non avevo finito l'anno col 125 gp per varie eventuali quindi mi hanno messo su sto 600 ero veramente piccolo per un 600 adesso è abbastanza comune sì adesso è comune però qua stiamo parlando del 2004 quindi un po' di anni fa credo un altro pilota che come te ha fatto questa cosa precocemente forse Niccolò Canepa sì siamo gli unici due perché siamo tutti coetanei io e Niccolò siamo dello stesso anno lui pure ricordo che passo subito tra l'altro forse proprio su una Kawasaki le primissime cose o su una Kawasaki o su un Suzuki credo può essere Celani qualcosa del genere può essere ma comunque i pochi che hanno fatto quel passo 600 hai fatto poi il mondiale 600 poi ho vinto il Kawasaki Trophy nello stesso anno in cui ho vinto il Kawasaki Trophy quindi il primo anno che facevo il 600 a fine anno arriva un'opportunità da un team di Milano che voleva fare una wild card a Imola nel mondiale io insomma non ero proprio preparato per fare il mondiale quant'altro però dico vabbè dai io andiamo 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 a fare sta gara del mondiale e feci terzo e da lì con un'onda peraltro quindi c'è non con la Kawasaki non con la moto tua questi dicevano un'onda e io con l'onda ho corso feci terzo e insomma è stata una bella una bella esperienza peraltro mi hanno squalificato dopo perché perché avevo un team che ricordo poi le cose che te riporti da ragazzino certo senza portare rancore ma chi mi fece questo reclamo perché io portavo il gas rapido il gas rapido quindi una modifica di chissà qual è il gas rapido anzi volendo e mi fece lo reclamo e mi fece lo squalificare però questo proprietario del team dopo tanti anni mi volle come pilota non gli diedi sono stato contentissimo di dirgli di no perché ah ok a 14 anni alla tua prima gara del mondiale vanno squalificare e sai perfettamente chi ti ha fatto il reclamo ok senza rancore però te all'epoca te la sei legata un po' no no che senza rancore ancora ancora non lo saluto brucia ancora sì sì assolutamente io non porto rancore ma non lo saluto fantastico sì assolutamente senti ma prima di arrivare alla squalifica ti ricordi che sensazione hai provato la prima volta che sei entrato in un paddock mondiale da pilota ovviamente da protagonista ma è stata una roba incredibile è un altro mondo poi il mondiale super biker di quegli anni era cioè i piloti erano veraci cioè incontravi Troy Bayliss Troy Corsair cioè gente che veramente solo quando ti guarda Fogarty quando ti guardava era erano gente insomma un po' particolare no Kili tutti i nomi talmente grandi per te che sei piccolo che ti mettono in difficoltà io mi ricordo sto paddock enorme pieno di bilici di roba fantastica di hospitality e io stavo con la tenda buttato dietro ai bagni arrivato però però bellissimo quando entravo in in pista e te guardavi intorno e c'era tanta gente e questa poi è la grande differenza non eri abituato certo è lì che è lì che probabilmente quando quando arrivi lì dici qui devo dimostrare che che sono in grado di ecco perché serve tutta una preparazione ecco perché serve la frustrazione ecco perché serve una serie di situazioni anche difficili che devi vivere per arrivare a quel momento ed essere preparato a certo no che significa aver fallito cioè sostanzialmente non significa aver vinto perché aver vinto è bellissimo ma non ti prepara ma sei preparato a vincere perché probabilmente lo sai fare ma se non hai fallito quando arrivi là con i riflettori puntati che poi non sono puntati addosso a te perché non sei nessuno però tu te senti i riflettori puntati e non riesci no a discendere la reale situazione e a performare al meglio io probabilmente lì in quel momento un po' di fortuna un po' di situazioni varie sono riuscito a performare e questo mi ha dato la spinta per andare avanti questo poi hai detto una cosa verissima che si ripercuote anche nella realtà nel lavoro nella vita in tutte quante circostanze se non impari prima a cadere non reggi ma intanto io il problema è proprio questo cadere tutti i giorni intanto la vita è bellissima per quanto bella ti mette davanti a delle prove delle prove difficili le devi superare tutti i giorni infatti io credo che i piloti in questo hanno non una fortuna ma hanno una preparazione diversa perché comunque tu mi insegni che il motociclismo è fatto di tante cadute per cadute non intendiamo la scivolata in pisa ovviamente e qualche vittoria chi più chi meno ed essendo abitati a prendere tante botte nella vita ti ritrovi un pochino non preparato perché non ti insegna chiaramente a prendere botte nella vita allora il mondo dello sport il mondo del mondo in generale perché noi parliamo di questo è un mondo sì assolutamente che ti prepara per una serie di motivi anche se ovviamente tante persone quando vedono le corse quando vedono quando vengono i paddock si pensano che stai a parlare con supereroi perché le persone sono abituate a vedere le persone che guardano gli sportivi ma tutti chi ha successo in qualche cosa le persone rappresentano questa persona di successo come una persona grande o che c'è qualcosa in più in verità non è vero niente persone che entrava in pista poi tu cioè davide sei quello che entrava in pista oltre il limite tra l'altro guidavi guida spettacolare corpo a corpo incredibile ecco io mi spoglio dalla mi levavo la tuta il casco e avevo paura e avevo paura della lucerta e quindi ma no parlando dell'animale certo non era chiaro il concetto io sono ipocontriaco ce l'ho tutte e quindi voglio dire cosa che uno non si immagina perché come hai detto io ti vedo quella tuta quel casco con la visiera nera un supereroe supereroe poi te dici te spogli diciamo questo c'ha più paura di me poi nella vita esattamente la realtà dei fatti è questa e infatti è qui che dobbiamo un attimino vogliamo avvicinare i piloti da supereroe magari a livello sportivo umanizzarli un processo di umanizzazione come tutti gli sportivi perché poi noi adesso parliamo di piloti ma un qualsiasi grande sportivo da Michael Jordan al più grande calciatore a Totti a Messi che sia solo in primis delle persone esseri umani con le fragilità le paure che abbiamo tutti quanti noi ma io credo che sono proprio quelle che ti portano non dico più ne hai e più eccelli in qualcosa ma io se io dovessi pensare a una mia caratteristica vincente no io magari uno ti direbbe la forza l'intelligenza io direi l'insicurezza l'insicurezza cioè io sono stata la persona più insicura del mondo e questo mi ha portato a eccellere in quello che ho fatto eccellere per quello che riguarda il mio livello quindi non significa aver vinto di più o di meno a eccellere personalmente per quello che ho fatto che cosa? l'insicurezza cioè un mio grande pregio sarà l'insicurezza perché volevo sempre spostare l'asticella più in là no sono sicuro che sto facendo il 100% oggi do un per cento in più un po' un po' questo ha alzato la mia sticella abbastanza e mi ha permesso di fare quello che ho fatto questo aiuta tanto secondo me perché le persone che hanno tante fragilità che però non hanno la fortuna la possibilità la circostanza di esprimere quelle che sono le proprie caratteristiche nello sport nel lavoro nella vita magari pensano di non essere all'altezza di non essere in grado di raggiungere degli obiettivi questa invece tu sei la dimostrazione esattamente opposta che non è hai fatto di un limite la tua forza pensare di non essere all'altezza secondo me fin quando allora non è giusto non è prettamente giusto nel senso di dire ok non è quello la chiave di lettura l'unica chiave di lettura perché quando io mi alzo la mattina e dico che non sarò all'altezza di fare questo dentro di me questa è la parte cioè il diavoletto dall'altra parte c'è l'angioletto che dice alzati e dimostra al diavoletto che ce la puoi fare quindi è questo che devi rapportare ci deve essere una bilancia un equilibrio sotto questo punto di vista io quello che dico ai ragazzi che vengono che girano intorno a me o quant'altro siate sicuri per quanto insicuri sembra una supercazzola ma in verità se uno capisce queste parole non sono il vangelo ma ti aiutano cioè non sono non sono niente però se tu sei sicurissimo di fare una cosa e poi non la fai ripeto entra la frustrazione entrano mille problemi che e comunque puoi anche non farcela cioè la verità è che puoi anche non farcela però dall'altra parte se tu dici ok io non mi sento sicuro di riuscire a fare questo ma mi preparo per faccio tutto in modo per farlo anzi se serve questo io faccio un po' di più in modo che cerco sempre di 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 dove non arrivo magari col talento arrivarci con l'impegno no adesso va di moda no la frase celebre di quel film che è come la cosa che batte sempre l'ossessione batte il talento frase che disse che si stonne ricordi esattamente giusto giustissimo deve essere bilanciato senza solo con l'ossessione non va da nessuna parte solo col talento non va da nessuna parte quindi ci deve essere tutte e due perché l'ossessione batte il talento è vero ma se non c'è il talento va da nessuna parte non cominci esatto non c'è lo start non c'è luce verde niente semaforo quindi quello che io vorrei dire trovate cioè chi ci ascolta se stanno cercando una qualsiasi strada trovate prima la strada che fa per voi perché andare così a braccio si fa fatica l'ossessione non batte sempre il talento un minimo di talento di talento ci vuole sempre costanza perseveranza e poi gli obiettivi si raggiungono poi come hai detto te penso che nel momento in cui tu sei al posto con te stesso sapendo di aver fatto tutto averci riprovato poi riuscirci o non riuscirci è quasi secondario assolutamente sì e poi riuscirci a meglio di non riuscirci siamo d'accordo tu hai quell'obiettivo ma l'obiettivo è essere quella persona che ci ha provato e che ha messo tutto non avere impianti non avere impianti i rimpianti nella vita sono la cosa penso peggiore che può succedere nell'essere umano infatti questo è non avere impianti secondo me è la cosa più bella che c'è sei stato parliamo di vita di tutti i giorni vai a scuola un bambino normalmente va a scuola io ho un mio figlio va a scuola ha fatto la prima elementare quindi è piccolino e avevamo come genitori io e già da mille paure all'inizio della scuola come tutti poi questi si adattano così tanto velocemente che si adattano prima loro che te a crescere ovviamente perché poi tu a un certo punto smetti di crescere pensi di aver smesso di crescere e poi invece tuo figlio che c'è sei anni ti dice che non è così quindi l'adattamento della vita è qualcosa di spettacolare dell'essere umano cioè noi ci adattiamo il bello e il brutto della nostra vita è che noi ci adattiamo a così velocemente a determinate cose il covid che insegna che voglio dire ci siamo adattati a stare dentro casa a a cioè oggi oggi prova di metterti la mascherina ad andare in giro guarda dice come ho fatto io per un anno andare in giro con questa mascherina non si respira sto male lì lo dovevamo fare per la sicurezza globale la sicurezza nostra e del prossimo e l'abbiamo fatto ci siamo adattati ci siamo riusciti siamo riusciti le file al supermercato esattamente oggi oggi vai al supermercato io ho andato al supermercato che ho vicino casa e c'è un grande parcheggio fuori e guardo il punto esatto dove mi ricordo il primo giorno sono andato a fare la spesa con le mascherine della 3M perché noi avevamo quelle da operaio perché non c'erano e ricordo esattamente il punto in cui mi sono messo in fila e io ti dico che attualmente io neanche parcheggio così lontano con la macchina e ogni volta passo lì e dico io qua mi mettevo in fila per andare al supermercato con i scaffari vuoti con i scaffari vuoti cerca la farina e il lievito siamo adattati siamo stati bravi nell'adattamento abbiamo grazie alla scienza grazie ai medici grazie al nostro moto abbiamo superato tutto questo momento e siamo andati avanti torniamo alle moto o meglio alle moto al tuo percorso di vita sportiva hai fatto la gara di Imola hai fatto terzo squalificato non squalificato adesso per noi ci interessa assolutamente niente arriva il momento del passaggio di categoria che tu passi al 1000 la categoria che poi ha caratterizzato sì nel frattempo c'è stato un percorso nella super sport del mondiale del mondiale sì con il team di Lightspeed di Bulega il team di papà del papà di Nicolò sì esattamente di Davide Bulega avevo nel frattempo siccome avevo vinto il Kawasaki Trofi ero riuscito a prendere un contratto ufficiale con Kawasaki quindi una cosa buona che mi permetteva un percorso di crescita avevo fatto italiano super sport europeo stock l'anno dopo mondiale super sport probabilmente un po' troppo presto era ancora piccolo non andò proprio come come sperato nel senso feci delle bellissime gare tutto il paddock riconoscevo la mia velocità era un po' inconsistente vabbè andiamo avanti comunque finito il mondiale super sport c'è un altro stop importante poiché non trovavo da correre non trovavo da correre e mi prese un team romano il team Cruciani gestito da Ninetto Suriano grande che chiede l'ambiente conosce benissimo Ninetto è il coach che vediamo nei film di box che sta al tuo angolo e non c'ha dei modi non è delicato fini ma ti sprona a mi spronava ad andare più forte non era il miglior tecnico non era non c'era la migliore situazione nel team non era il team ufficiale ma fatto sta che grazie a lui i risultati arrivavano arrivavano vincevi le gare facevi dei bellissimi risultati questo ti permetteva devi farti vedere noi andavamo nel mondiale super stock dove i nostri rivali era Ducati Xerex Suzuki Lo Star Yamaha Lorenzini cioè tutta roba ufficiale certo e noi con Ninetto battevamo il più delle volte questi qui e era una grandissima soddisfazione assolutamente con Suzuki hai detto con Suzuki si Suzuki 1000 K8 moto che era vecchia no perché già combattevamo con il 1998 che avevano una serie erano moto importanti era una moto da battere il 1998 R gestito da Phil Racing quindi tra l'altro team ufficiale colorazione ufficiale Xerox il team manager era la serie fino a fuori insomma è roba è roba ufficiale c'era Niccolò Cane per quell'anno e Simeon sì credo che sì Simeon e Niccolò che sì 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 oh sì non mi ricordo Brandon Roberts non mi ricordo quegli anni chi c'era comunque vinsero la categoria io feci terzo quarto adesso non ricordo comunque quello mi apri altre strade feci un errore grandissimo l'anno dopo ad andare in una squadra che era gestita bene ma la moto era difficile era l'MV Agusta era velocissima la moto mi ricordo Valencia prima gara pole position record della pista diedi tipo sette decime il secondo il problema che non sono arrivato alla seconda curva perché si era rotta seconda gara idem con patate terza gara quarta gara mi ho detto ragazzi questa non è non è l'anno che io voglio fare mi mi fermai indieti a correre per qualche gara con il team Celani feci delle belle gare e un'altra volta un'altra battuta dal resto perché trovavo da correre ma non a livello dove volevo correre cioè io volevo vincere il campionato del mondo e con i team con cui non c'erano le condizioni erano difficili erano difficili quindi vado a fare una gara mi ricordo il com'è che si chiama il trofeo d'inverno qualcosa la gara di Natale a Vallelunga il trofeo di Natale il trofeo di Natale con il team all'epoca non mi ricordo come si chiama comunque il team di Petrica ok con Ducati vado velocissimo capisco che la Ducati era la moto con cui avrei potuto vincere il mondiale stavo vicino a firmare con il team di Petrica quando una sera su Facebook mi scrive Genesi o bevi l'acqua così se non hai niente da fare Romani vieni da noi che parliamo io ero scannatissimo all'epoca proprio un giorno dopo trovo una macchina per andare a Fianor no a Magliano Sabina lì insomma Civita Castellana arrivo da Genesi e dico tu vuoi correre voglio correre certo voglio correre insomma mi ha proposto subito un contratto siamo andati e la domenica dopo mi ha portato a fare il primo test peraltro non era pronta la stocca quindi Genesi ha tirato fuori un superbike e mi ha fatto guidare a Vallelunga perché ne ha poche poi si Genesi ha questa problematica che non reperisce la moto cioè quel piccolo box garage chiamato moto dei miti esattamente quindi mi ricordo che non c'avevo una tuta non c'avevo niente mi diede una tuta di Shaky Byron dove c'aveva? si si e mi fece fare sto test sono andato abbastanza forte a Vallelunga da lì poi è arrivata la stocca ha preparato la squadra per me il resto è storia abbiamo vinto subito il campionato del mondo Genesi è un altro di quelle persone che ti segnano nella vita nel bene e nel male nel senso il bene è che l'opportunità che mi ha dato Genesi bevi l'acqua è stata la più grande che io abbia mai avuto perché mi ha dato una grandissima opportunità non che gli altri non me l'abbiano data perché mi hanno dato la stessa opportunità di correre ma lui mi ha dato l'opportunità di correre per vincere che è ben diverso e si è vinto subito e subito dopo è arrivata la proposta per fare il mondiale superbike compagno squadra di Carlo Cega che era nello stesso anno ha vinto insieme a me il mondiale il mondiale superbike tu l'anno della stock 1000 poi ricordiamo hai vinto contro Danilo Pedrucci Danilo Pedrucci corre contro ha fatto secondo poi avete preso due strade differenti quell'anno si è vinto con due gare in anticipo addirittura tanto è vero che se non ricordo male tu hai fatto anche alla fine le ultime gare con la superbike Genesi mi fece questo premio di fare le ultime gare con la superbike e come è stato l'ultima gara con la stock 1000 e la prima gara con una superbike perché adesso agli occhi delle persone possono sembrare diciamo beh sono 1000 di cilindrata è la stessa moto no 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 guarda allora torno un attimo indietro perché non voglio essere frainteso Genesi o quando ho detto nel bene e nel male Genesi è la persona che ti può dare l'opportunità più grande che un pilota può avere e è la persona è una persona che ti spinge veramente al limite e delle volte questi limiti per tante persone intorno magari a lui delle volte lo accettano delle volte vanno sotto stress delle volte non ce la fanno io in quegli anni là sono riuscito a a a diciamo a come dire ad andare a gestire a gestire questa cosa però Genesi è una persona assolutamente sa fare il suo lavoro benissimo questo l'ha dimostrato sì assolutamente e ovviamente non con tutti gli riesce no perché lui come come tutte le grandi persone delle volte pensano che grazie al loro lavoro tutti possono riuscire a eccellere in verità questo non succede sempre ti può succedere con Davide Giuliano ma perché c'era già una base importante ti può succedere con Carlos Ciega perché è già Carlos Ciega è vero che Carlos stava nel nel viale del tramonto lui l'ha preso e l'ha rifatto vincere ma quello era sempre Carlos Ciega certo e non sempre può capitare però con noi è capitato ed è stato ed è stato bellissimo poi arriva il momento della superbike e Genesi mette insieme una squadra mette insieme una moto cosa difficile anche per lui perché mette insieme una squadra nel mondiale superbike fatta come la fa Genesi o bevi l'acqua certo non lasciando non lasciando niente al caso è difficile però mi ricordo che io credo che ho avuto una delle migliori squadre il mio primo anno in mondiale superbike perché era la squadra campione del mondo innanzitutto al di là della squadra in generale poi come capotecnico avevo Ernesto Marinelli che in quel momento era capo del reparto corse superbike quindi una figura di spicco della Ducari superbike e Alessandra che era adesso non ricordo il nome ma era comunque un ingegnere di Troy Bailey e gestiva il stava a capo anche lei della parte elettronica del team sviluppo della superbike quindi una squadra cioè che dici vabbè io io non sapevo dire niente a questi aiutatemi a performare comunque quella sarà una bellissima una bellissima situazione mi ricordo sono andato anche veloce mi ricordo la prima cosa che mi fece vedere Genesio ecco perché la pressione di Genesio era incredibile mi fece vedere la prima gara di qualche anno prima in superbike di Johnny dove parti in prima fila Johnny Ria dice vedi se Johnny ho fatto è partito in prima fila alla prima gara puoi farlo anche tu e io non andi di tanto lontano perché mi pare che sto partito in seconda fila alla prima gara alla prima gara alla fine feci credo adesso non ricordo ma nei dieci in gara ma fisicamente io ero morto perché la gara della superbike era lunghissima a confronto quella della stock mill anzi erano due erano due e mi ritrovai a combattere con Noriuki Haga e Michel Fabrizio cosa che io insomma è stata una bella situazione una bella prima gara immagino poi emozioni no non c'è tempo di emozionarti la verità è che non c'è tempo di emozionarti l'emozione è stata prima quando ti hanno detto andiamo a fare la gara della superbike figo emozione poi e poi dici e mo come faccio che devo fare esattamente e quindi in quel momento Fabrizio Haga erano semplicemente un pilota con la tuta e il casco eh sì però erano Fabrizio e Haga insomma non erano con tutto rispetto altri piloti erano nomi importanti però il rischio per molti piloti che arrivano al mondiale di avere quel timore reverenziale nei confronti di piloti affermati spesso risulta un limite no io avevo ammirazione ma timore no è certo timore è un pilota come me esatto sta lì a fare la stessa identica cosa due mani due braccia due gambe no ha più esperienza timore no ammirazione tanta cercato di imparare il più possibile e basta e da lì comincia la scalata il percorso proprio in superbike da lì superbike in pianta stabile sì assolutamente Genesio per un altro anno con l'Apriglia poi passato nel mondiale superbike con Ducati ufficiale nel 2014 2014 15 16 sono stati anni che ho fatto con Ducati ufficiali abbastanza impegnativi purtroppo non con la moto più facile che Ducati abbia mai prodotto anzi direi con l'unica moto non vincente che Ducati abbia mai prodotto e ci sono capitato io in mezzo ma è stato in ogni caso bellissimo emozionante allo stesso tempo per quanto difficile avevo una delle migliori squadre anzi la migliore squadra del mondiale superbike perché c'è Ducati dietro Ducati è impegnata in maniera attiva diretta nel mondiale superbike quindi hai una un'azienda dietro incredibile la squadra Phil Racing che gestisce in materia ufficiale è una squadra abituata che è la squadra che attualmente gestisce il team ufficiale esattamente poi è arrivato anche un grande sponsor nel 2015 che è Aruba che ancora c'è e quindi insomma è stato bellissimo per quanto è stato incredibilmente difficile perché la Panicale V2 superbike era una moto che in quel momento lì quindi con Kawasaki con Aprilia con una serie di moto che giravano intorno era difficile far vincere era la 1199 giusto? 1199 sì bellissima moto credo che sia costata a Ducati una follia di sviluppo beh una linea che regge ancora perché non si distacca tantissimo come linea anche dalla V4 la Panicale la Panicale è la moto cioè era una Panicale V2 che peraltro è quella che usiamo noi in questo momento nel mio team sì ma la Panicale V2 è bellissima è bellissima il problema è che quella Panicale lì trasportata nella versione superbike in quegli anni lì aveva dei limiti dei limiti inevitabilmente sì e tu quindi corri tre anni nel team ufficiale Xerox no era scusami perdonami nel team Aruba che succede poi il 2015 accennavi prima insomma che hai avuto il 2015 che hai avuto allora lì c'è stata la vera sliding door della mia vita il 2015 la preparazione tra 2014 e 2015 è stata eccezionale il team la squadra fece un lavoro incredibile e io ero fottutamente veloce ma fottutamente veloce nel senso che se vai a riguardare tutti i test da fine 2014 inizio 2015 con lo sviluppo che si era fatto sulla moto eravamo veramente avanti cioè la Ducati aveva spinto il team aveva spinto talmente tanto che la moto aveva fatto un passo avanti incredibile io ero dannatamente veloce ma ero talmente veloce che non avevo mai fatto secondo durante in un test invernale neanche in un'uscita neanche un minuto dei test invernali che ero stato secondo sempre primo sempre primo e la sicurezza lì era tanta cioè era l'anno del mondiale tutti intorno a me erano sicuri che io avrei vinto il mondiale quell'anno lì e arriviamo a Phillip Island dove dove ero veloce là c'è coi maledetti test il lunedì e martedì dove la pista è da tanti mesi che è ferma quindi sporca Phillip Island è una pista bellissima per quanto complicata ci sono delle situazioni in determinate volte che infatti se te vedi gli infortuni di Phillip Island sono sempre infortuni pesanti importanti e tante cadute comunque lunedì credo tutto bene finisco primo il martedì o comunque giù di primo cioè sì credo credo primo comunque stavi davanti sì il martedì preso con molta tranquillità entro con una gomma usata e ricordo esattamente il processo mentale che ho fatto perché io facevo non tanto difficoltà con le gomme nuove ma con le gomme usate andavo un po' in difficoltà quindi io da metà gara in poi o scivolavo o incominciavo andare indietro quell'anno invece tutti i test invernali erano stati preparati appunto per comunque facciamo questa uscita con una gomma usata o in eyesight brutto alla penultima curva cado sento che c'era qualcosa che non andava e vabbè mi portano all'ospedale per controlli mi sono rotto tre vertebre lombari adesso non mi ricordo lombari sagrali comunque comunque tre vertebre tre vertebre ok primo stop ok da lì dici ok mondiale ciao ciao tre mesi la prima cosa che mi hanno detto amore mio 90 giorni in modo non ci sali perfetto sono 90 giorni fermo la squadra è stata messa da vicino nessun tipo di problema però ovviamente quando stai fermo soprattutto ti rompi le vertebre non puoi allenare niente cioè non devi stare fermo quindi per un mese e mezzo porti un busto e dopo stai fermo quindi arriviamo ad Imola che non erano esattamente 90 giorni ma erano tipo 12-13 giorni prima comunque io provavo volevo provare a rientrare ad Imola e quella è stata la gara più romantica con più emozioni che io ricordo è stato bellissimo bellissimo per una serie di situazioni per i miei amici che avevo vicino io ho sempre viaggiato nel corso della mia carriera con con Carlo e Franca che sono questi miei due amici ancora oggi siamo ovviamente siamo appunto una una crew e insomma prepariamo sta gara andiamo il martedì mi ricordo dal dottor Catani che è un dottore di fiducia degli educati dice secondo me hai l'ok per salire in mano il fit check ok fatto sta che io se sbadigliavo ti faceva male? no 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 se sbadigliavo svenivo cioè non c'evo forza perché era tre mesi che mangiavo pochissimo credo per una sorta di piccola depressione che mi aveva colpito quindi mangiavo poco ero insomma non ero proprio fisicamente prestante comunque mi erano so fit tutto a posto perfetto mi ricordo mi metto sulla mia seduta lì il venerdì mattina metto la tuta e avevo paura avevo paura perché la prima volta che mi sono fatto male seriamente è stato quel momento lì seriamente significa che hai una frattura che potenzialmente ti avrebbe potuto cambiare la vita e lì è stato la mia insomma il mio primo prima presa di coscienza presa di coscienza che sulle moto uno si può fare male seriamente non che prima non lo sapevo perché non è che ero fuori dal mondo sapevo che mi potevo far male ma ho sempre pensato che sarebbe successo agli altri e non a me lì comincio a capire che succede anche a me quindi vabbè tutto il mio percorso mentale ma che è importante comunque il percorso mentale nel senso perché si si è quella che poi dopo questa ti racconto comunque metto sulla mia portrona ok mi vesto tutto figo tutti dagli e davide bello fai sei rientrato io ero italiano rientro a imola tutti i fan dagli e davide siamo metto sulla tuta me cago addosso c'è proprio una paura fottuta di montare sulla moto comunque dico l'unica cosa che mi può far uscire da questo loop è entrare in pista e andare il più veloce che posso ok metto il casco esco tutti quanti carlo frank te prego non fa stupidaggini anche perché io poi ero uno che se ci era da buttasse per terra mi ci buttavo ben volentieri quindi tutti un po' preoccupati da questo mio atteggiamento però non tutti conoscevano la mia paura interna anzi nessuno la conosceva anche ok l'unica cosa che dico qua mi può salvare l'unica cosa che mi può salvare è andare il più forte che sia possibile faccio uscire al box mi passa Johnny ok all'uscita proprio dei box e dico Jonathan Ria Imola è sempre andato velocissimo lui è campione del mondo quindi sta guidando forte solitamente l'approccio di Johnny ai primi giri è andare subito veloce per trovare l'esplosività e il feeling ok mi metto a dire a lui e non lo mollo fatto sta è successo così ho fatto questi primi tre giri io guarda con la paura proprio vera però mi hanno aiutato a riprendere tutti gli autonomatismi la velocità e a sorpassare quel blocco che avevo vado velocissimo fino al primo turno fp1 secondo rientrano tutti tutti fomentati da sta cosa anch'io perché in quel momento il tuo ego sei riente certo e da lì poi insomma tutto scema però quel weekend è stato magico perché arriviamo in super pool io facevo fatica veramente a mettere insieme quattro giri nel senso fisicamente ero veramente provato sì poi a Imola insomma la pista più difficile che abbiamo in Italia è faticosa esattamente comunque dai clinica mobile all'epoca la clinica era importante non è proprio come oggi all'epoca la clinica ti aiutava forse delle volte andava eccedeva però ti permetteva di essere mi permetteva di guidare comunque fatto sta ci prepariamo arriviamo in super pool nessuno mi chiedeva di fare i risultati devo essere sincero però io mi ricordo c'era la tribuna Ducati davanti e c'era sta scritta Daje Davide che mi aveva accompagnato durante tutta la mia convaliscenza perché dovizioso non mi ricordo che forse le prime foto chi l'aveva fatta con questo cartellone Daje Davide però tutti i piloti Ducati dovizioso Iannone Svans Daje Davide insomma tutto il nostro mondo dopo il mio infortunio mi aveva spinto abbastanza insomma tribuna Ducati Daje Davide è fighissimo sopra le mie striscioni cose in Italia noi siamo passionali siamo capaci a farle esattamente questo è bellissimo e entro in super pool con un'idea sola devo fare la polpositiva vabbè alla fine esce bene e pool position record della pista bellissimo ma potremmo così incredibile Ducati io rientro Imola pool position cioè devo immaginare quello che è successo e è stato è stato veramente meraviglioso io in realtà poi se ti ricordi ero lì quel giorno ci siamo ci siamo visti più volte mi ricordo perfettamente soprattutto il sabato sì 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 assolutamente cioè io mi ricordo dopo la mia pool position apro il box una marea di gente c'era gente ovunque cose che io avevo visto solo quando vai a vedere la moto gp di ero il box di valentino certo ma me lo ricordo benissimo io quell'immagine c'è una foto bellissima mia che sto in mezzo ero piccolissimo con sto fiume di gente intorno a me ed è stato quello che credo che hanno io non ho vinto niente alla fine io non ho vinto niente però le persone mi hanno sempre riconosciuto come un gran pilota un gran cuore mi hanno sempre voluto un sacco di bene e credo che sono state queste cose qua queste mie dimostrazioni di passione non di forza nel dire lento di passione cioè io ho fatto quella pole position perché ho messo tutta la mia passione sul tavolo io ho detto devo andare il più veloce che sia possibile per una serie emotive ai miei interni ma alle persone è piaciuto tantissimo e poi vabbè il giorno dopo ho concluso la gara terzo quindi comunque il podio l'hai fatto il podio la gara 2 ero terzo fino agli ultimi giri poi gli ultimi giri io mi ricordo non la volevo neanche fare gli ultimi giri mi ricordo che la gara 2 non riuscivo neanche più a frenare cioè proprio le mani non funzionavano più quindi perché uno pensa no la moto ti porta la moto devi dare solo gas preparazione se un pilota è veramente di livello altissimo sei un atleta soprattutto mondiale sei un atleta tutti gli effetti vivi da atleta 365 giorni l'anno e quindi quello è stato il weekend è più bello il 2015 poi è stato sempre pieno di emozioni perché a me mi scadeva il contratto quindi ho cercato di fare il massimo bene perché volevo rimanere in Ducati e a Laguna Sega ricado e stavolta mi rirompo delle vertebre cervicali e quella è stata bruttissima mi ricordo che i medici americani secondo loro non avevo niente io ero sicuro al 100% se mi fossi rotto un'altra volta le vertebre vabbè ritorno a Roma vado dai medici miei di fiducia trovano queste fratture molto importanti e quello è stato esattamente il momento dove ho capito che probabilmente da lì a breve io avrei smesso di correre in moto perché questo medico probabilmente non con il miglior tatto del mondo mi mandò a fare la risonanza magnetica lo rispettai nel suo ufficio è rientrato con la risonanza magnetica e ho detto guarda sdraieti io non so neanche tu come stai in piedi perché perché con una frattura così e con quello che come stai messo la maggior parte delle persone non camminano e lì mi sono messo lì è stato il momento cioè già venivo da una frattura vertebrale un'altra frattura lì ho capito che non c'era più da scherzare poi ho combattuto contro le mie paure ma un'altra volta sì poi sono rientrato 2016 tantissimi podi e però lì qualcosa è cambiato sì ed è il momento in cui poi parliamo del 2015 16 quindi 26 27 anni 26 anni l'apice a livello sportivo in qualsiasi sportivo a livello di preparazione a livello fisico mentale hai l'esperienza hai la velocità ma non hai i 35 40 anni in cui le paure magari aumentano ero nel momento migliore però è diventato in un secondo un momento peggiore e questo ha rafforzato insomma il tuo la tua personalità perché personalità i tuoi obiettivi si sono riconcritizzati mi è nato un figlio nel frattempo una serie di cose bellissime nella mia vita che hanno che le priorità cambiano prima la mia vita era gestita su me stesso e sulle corse ho conosciuto mia moglie le cose cambiano le priorità cambiano quindi dallo sport la mia visione di vita ha capito che l'amore è molto più bello insieme allo sport è meraviglioso è rimasta incinta cioè è rimasta non c'è rimasta abbiamo voluto un figlio quindi quando è nato Mattia la mia il mio essere umano è cambiato ha cambiato visione quindi bellissime le corse sono la mia passione sono ad oggi il mio lavoro ma la voglia di rischiare non era più non era più al 100% era diventato il 95% e già là il 95% non basta per fare il pilota professionista quindi secondo te è vero quello che diceva il nerve che no in realtà non era il nerve era penso Ferrari quando ti nasce un figlio perdi un secondo giro ah no si non mi ricordo chi l'ha detto si oddio non lo so se è vero non ricordo adesso la persona che ha detto comunque si l'ho sentita e non so se è vero che un figlio le fa perdere un secondo giro perché dipende da come lo vivi certo il figlio ci stanno tanti piloti che hanno due tre figli e problemi non anzi Crutch lo l'ha tolto il secondo quando è andata la figlia esattamente ma anche dai Belis tanti piloti Jonathan Ria hanno figli e continuano ad andare velocissimi io ho pensato che le priorità erano altre erano altre quindi quando ho visto mio figlio per la prima volta dico è bello che papà gli racconterà che è stato un pilota ma è anche bello che papà è integro e glielo racconta e può portarlo al parco normalmente normalmente tua moglie l'hai conosciuta mia moglie l'ho conosciuta nel paddock lei lavorava prima per Flammini poi per Dorna e ci siamo conosciuti pensa noi abitavamo a 800 metri di distanza ma incontrati e non vi conoscevate ma assolutamente no non sapevo neanche che ci fosse qualcuno nella mia zona che lavorasse nel mondo delle corse però l'ho conosciuta a Donington e quindi dai da lì è stato velocissimo perché ci siamo conosciuti ci siamo innamorati abbiamo fatto un figlio siamo andati a vivere cioè siamo andati a vivere insieme abbiamo fatto un figlio quindi diciamo che sei coronato sì quanti anni ha detto fa la prima elementare quindi a settembre ne farà sette quindi appunto combacia poco dopo quel periodo insomma di cui parlavamo sì assolutamente poi arriva il momento che hai accennato prima del BSB sì il mio più grande sbaglio ecco questa poi Davide Giuliano passa al BSB finisce il mondiale però mi sono reso conto che è mancato un po' di comunicazioni in quel momento cioè la gente non sa realmente io stesso che ti conosco ci conosciamo da qualche anno cosa è successo quell'anno ma è guarda è molto lineare e non c'è niente di strano cioè l'unica cosa strana è che un pilota che è cresciuto nel mondiale superbike come me è nel nella parte diciamo italiana dove la nostra sicurezza i nostri circuiti la visione della federazione la visione dei team è una visione di iper garantista ok dove i circuiti devono essere al top dove i team devono essere per quanto magari limitati economicamente ma non deve mancare niente devono essere sicuri e in ogni caso la preparazione delle persone che abbiamo noi dentro i nostri team è di altissimo livello dal gommista al tecnico capotecnico è di altissimo livello nel bsb c'è una visione diversa e per un pilota abituato cresciuto nel nostro mondo chiamiamolo così ok italiano e mondiale superbike andare lì è estremamente difficile è un'altra realtà è un'altra realtà lì le piste sono secondo me al limite della sicurezza la visione la mission del promoter del bsb che è giustissima attenzione perché fanno dei numeri incredibili quindi il loro focus e il loro modo di fare le corse è quello giusto ma è il mio quindi la loro visione è giustissima portano tantissime persone i sponsor che ci sono sono importantissimi le squadre sono ricchissime quasi tutti i piloti prendono dei soldi attenzione che è una cosa non da poco perché nel campionato italiano nessuno prende dei soldi e la maggior parte li porta per correre buona parte anche del mondiale esattamente quindi il loro pacchetto è interessantissimo le corse sono fatte benissimo per questo io non avete mai sentito dire da parte mia che quella è una roba che non si può fare no quella è una roba che si può fare da inglese da inglese quindi loro lo fanno crescono con quel tipo di mentalità sanno anche fare le corse lì perché non è la stessa cosa che non è la stessa cosa e quindi benissimo per loro io ho fatto un errore ad andarci perché a proposito di soldi so che girano tantissimi soldi mi ricordo di piloti che guadagnavano più nel BSB nel campionato del mondo vedi Aslam gli ultimi anni per fare qualche paragone io ero andato perché una delle motivazioni che mi hanno spinto ad andare lì era un buon ingaggio BMW BMW ricordo dici se è vero insomma anche il regolamento tecnico è molto differente ma è vera la storia che non ci sono i controlli di trazione sì sì non ci sono zero proprio non ci sono quindi non i controlli che hanno di serie no no la moto è peggio della moto serie permettetemi di dire peggio perché è peggio della moto serie cioè tu prendi un V4R gli togli gli togli l'antimpennamento ha poche cose puoi gestire un po' il freno motore un po' di controllo di trazione lo fai ma è come controllo di trazione si faceva 30 anni fa quindi con il ritardo quando scivola stacca no 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 non con quello quando scivola se scivola vai a terra è fatto solo in base alle ma c'è un diciamo un regolamento che è molto lontano rispetto a quello dove stiamo andando oggi cioè oggi stiamo andando verso la sicurezza verso la sicurezza lì sono rimasti sulla spettacolarità attenzione format azzeccatissimo perfetto perché se te vai a vedere tutte le squadre di bsb sono tutte squadre dove non manca niente i sponsor sono importantissimi i piloti prendono quasi tutti i soldi dal primo al credo decimo dodicesimo quindi il format è funzionato azzeccato in Italia non lo puoi fare in Italia non ci pensiamo perché in Italia abbiamo la fortuna di averci una federazione che tiene ai piloti alla sicurezza non che lì non ce l'hanno attenzione ma sono due parametri diversi ovviamente se in Inghilterra pensiamo che esiste il TT la Northwest cioè questi quando corrono in pista stanno in un brodo di giugiole quindi voglio dire una volta che tu hai fatto il TT io avevo come compagno di squadra lì da BMW no Ickman come cavolo si chiama Jan Atchison Jan Atchison esattamente ok vabbè ripartiamo da là quindi io come compagno di squadra Jan Atchison nel BMW Taiko che faceva il TT e le gare stradali e insomma parlando lui mi raccontava adesso il TT con con una tranquillità che gli dì ma no ma no la fai quinta poi fai sesta gas aperto il tombino il marciapiede sei scemo cioè sei scemo è l'unico pensiero che puoi avere nel senso da parte mia è una follia tu non l'hai mai corso ovviamente il TT non l'avresti mai fatto io non ho mai avuto la moto per andare in strada ecco questa è un'altra cosa che la gente spesso non ci crede conosco tanti piloti che non hanno neanche la patente non hanno il motorino non hanno il moto e a domanda ma pilota vai a 300 leone non è il motorino la gente risponde io per strada ho paura paurissima proprio nel senso allora tu devi pensare che un pilota ogni volta che si mette un casco va al 100% cioè abituato è programmato per andare veloce quindi siamo pericolosi cioè ma non lo fai per cattiveria perché tu ogni volta monti su io monto su si chiude no non è che il cervello il cervello ce l'hai però chiaro per andare a 100 una persona normale che usa una moto normale quando va a 100 all'ora 120 all'ora sta andando a una velocità sostenuta per me andando a 100 all'ora è appena uscire dal box esatto quindi la vista l'approccio che hai è diverso quindi è meglio non andare a parte che a me non piace usare una moto per strada non piace anche se ad oggi capisco che è meraviglioso cioè usare la moto per andarsi a fare la passeggiata cioè ti dà quel momento le solitudine tu e lei che probabilmente è meraviglioso io sto pensando oggi dopo anni di prendere una moto per andarmi a fare una passeggiata quindi ad oggi posso capire la bellezza di andare in moto non capisco sinceramente chi usa la moto in strada e questo lo dico vi prego non lo fate come deficienti nel senso vediamo ad oggi video siamo tempestati oggi di video dei cose su internet che ci stanno tanti personaggi che usano la moto in maniera sbagliata con questi cellulari volete andare in moto fatelo siate concentrati compratevi il materiale buono per andare in moto cosa fondamentale fondamentale quindi il casco deve essere buono la tuta deve essere buona meglio aspettare un anno in più ma non va a comprare robaccia ma andate in moto per godervi la moto non andate in moto per imitare qualcuno che fa qualche video sciocco questo non va bene assolutamente perché poi la gente ecco tu ci insegni appunto che il pilota che è forte ci sa andare per strada non ci va neanche perché è pericoloso è pericoloso andare in strada è pericoloso ma allora ovviamente guidare l'incidente può capitare perché questo è chiaro non è che stiamo parlando del nulla cosmico l'incidente può capitare devi stare però quando vai in moto in macchina in qualsiasi cosa la sicurezza stradale sta davanti a tutto per te perché per gli altri ma soprattutto per gli altri devi essere una persona che ha rispetto per in primis per se stesso ma soprattutto per gli altri perché se tu stai guidando in moto stai pensando all'inquadratura giusta da far vedere al video al video probabilmente non stai guidando la moto nella giusta maniera o vedo tanti motociclisti nelle strade di montagna no tuta casco stivali quanti bellissimi moto tiratissime non c'è bisogno che toccare il ginocchio per strada prendetevi un turno in pista che capisco che è uno sforzo economico ma un turno in una pista può costare non lo so 80 90 100 euro magari non devi preparare niente però se vuoi toccare il ginocchio vai a farlo in sicurezza vai a valle lunga vai non c'è bisogno di farlo in strada in strada è solo pericoloso è solo pericoloso anche perché tu sei bravissimo a guidare la moto sicuramente chi tocca il ginocchio in strada sono bravissimi a guidare la moto ma in strada ci può essere un pochetto di brecciorino un pochetto di olio la pista la strada un po' sporca una macchina che ha bucato più avanti mille cose un po' d'olio mille cose che non volete fare anche video chiunque cioè questo è un mio appello nel senso vi prego volete fare video volete fare qualsiasi cosa fatelo in pista e soprattutto non mostrate sta roba su internet perché ci stanno ad oggi sono un papà ho un bambino di sei anni che segue vuole diventare uno youtuber lui è un gran giocatore vorrà diventare uno youtuber per il momento quindi vedo che mio figlio segue tantissimo il pericolo è che la gente gli emuli è normale che i bambini di sei anni prendono spunto quindi quando pensate di fare un video figo pensate anche a quelli che sono i risvolti negativi che potrebbe avere quel video assolutamente tu guarda il bsb quindi collegandoci al discorso di paura che abbiamo visto che comunque è stata una costante in determinate circostanze che poi nel bene e nel male ti ha anche temprato ovviamente nel 2015 bsb posso ipotizzare che comunque ci sono state situazioni in cui non dico paura quanto tale però hai capito che non era il tuo ambiente non erano le tue corse no non erano le corse come come le vedevo io piste con sicurezze spesso al limite piste con salti perché ad esempio Cadwell Park che piste da prima seconda senza controlli e mille finisci non finisci la stagione no quindi immagino consensualmente insomma avete trovato un accordo e ti rifermi sì la decido ok basta mi codo la pensione per il momento potevo permettermi di passare un annetto tranquillo 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 sì arriva una telefonata sì è una telefonata di Honda sì perché purtroppo come ci hai accennato prima quell'anno l'incidente sì di Nicky Hayden a Misano in bicicletta non non in pista parte il grande dolore per tutti quanti perché era una persona vorrei dire adorabile forse al termine giusto una persona pura con tutto che guarda credo una come si dice il ragazzo dalla porta accanto ragazzo dalla porta accanto al contrario di quello che si possa pensare perché un campione del mondo MotoGP arriva dall'America sì un percorso particolare arriva in superbike non da campione del mondo da un periodo che è stato campione del mondo sul team ufficiale sì che tornava ufficiale perché poi Honda con tutti i crismi del caso invece una persona di un'umiltà incredibile tu lo conoscevi bene? conosciamo conoscenza da paddock però sai conoscenza in poco tempo instauri dei rapporti incredibili quindi sì conoscevo Nicky un altro ragazzo come me quindi sempre in giro con la ragazza stava una bella persona si libera la moto sì purtroppo sì come va come funziona la cosa ti contatta qualcuno? mi contatta Honda mi sento di dire che mi ha corteggiato per un po' di tempo io non ripeto stavo bene a casa peraltro io sono uno che come vedete tende un po' ad ingrassare ero a casa da un po' di mesi avevo preso qualche chilo e quindi insomma quando mi contatta dice ma io non c'ho voglia cioè nel senso io ho sempre per la mia insicurezza quando mi allenavo se se l'allenamento medio che dovevo fare era due ore stavo tre ore in palestra ma non a parlare ad allenarmi quindi se dovevo correre per quel giorno per sette chilometri magari tiravo e facevo dieci chilometri sempre per la mia insicurezza perché dico sempre meglio che sono un po' più preparato che un po' meno e quindi sai da impreparato ti chiamo una casa come Honda la prima cosa che gli dici bello bellissimo ma no insomma mi sento corteggiato e alla fine decido di andare perfetto parte la challenge venti giorni venti giorni per rimettersi in forma con venti giorni persi tipo sei o sette chili ma allenai sei ore al giorno sette ore al giorno sai il corpo non dimentico fortunatamente quindi riesco a a riprendere insomma a riprendere un po' di forma un po' di forma e vabbè insomma vado vado da Honda faccio quattro cinque gare fino alla fine del campionato credo che poi alla fine abbiamo fatto credo il miglior risultato dell'onda di quell'anno l'ho fatto io a Magnycourt era un quarto un quinto posto perché era una moto agli inizi poi quella che funzionava già non davide insomma non era competitiva non si poteva vincere con tutti i sforzi di Honda perché insomma poi l'epoca insomma Honda Red Bull c'era tanta roba dietro che investiva quindi quella era una sella che scottava perché insomma per tanti versi non era una situazione del bene del male no non era una situazione comodissima dovevi andare veloce ma non potevi andare tanto veloce non potevi andare tanto veloce perché a moto era un po' indietro io venivo dalla migliore squadra della superbike quindi sapevo come si lavorava e lì non è che non lo sapevano fare ma l'approccio era diverso quindi io dovevo adattarmi al loro approccio cioè non lo fai velocemente quindi te stavano una serie di motivi che è una serie di cose che non è che facilitavano il lavoro però poi fortunatamente il team che gestiva quella sella all'area era Tencate e Tencate è uno dei migliori è uno dei migliori team del nostro paddock quindi dai c'era Honda Italia Honda Europa dietro quindi sponsor importante Red Bull tutto ha funzionato fino al momento che quando c'era rinnovare per l'anno dopo io non c'avevo tutta questa voglia Red Bull credo che volesse un americano fortemente un americano invece Honda Italia insomma un po' le persone si erano trovate bene con me e volano continuare alla fine diciamo io mi sono un po' fermato nelle nelle trattative loro questo l'hanno capito e hanno hanno continuato con Gagne l'anno dopo quindi in pilota americano un pilota americano che voleva lo sponsor sì 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 anche un buon pilota assolutamente assolutamente anche lì vedi che Gagne in America vince mondiale nel mondiale non faceva tantissimo ma perché i piloti sono quando fai per tanti anni un campionato da biglio e quel campionato tu sei velocissimo e magari che ne so in una pista americana puoi essere anche più veloce dei piloti superbike però sei abituato a fare quel campionato con quelle gomme con quelle regole con quel tipo di di tempistica nel mondiale superbike devi essere abituato a fare quello quindi sai ognuno ha la sua specialità certo e la fatica che fanno gli americani quando arrivano al mondiale o la fatica che fanno gli europei quando vanno in America abbiamo visto Petrucci che è andato in America con un buonissimo team supportato ufficialmente dalla casa eppure non è che è andato là e se l'è portato dalla casa se l'è sudata e non se l'è portata e non se l'è portata a casa quindi vogliamo mettere che Petrucci non è più bravo dei cagni secondo me è più talentuoso dei cagni di Petrucci oltre a un'esperienza oltre a un'esperienza incredibile eppure lì non se l'è portata a casa appena se gli emotivi gomme approccio del team piste piste è normale che sia così Elias pure andò Elias però c'è riuscito però vinsi Elias c'è riuscito Elias è stato bravo quella era uno step ancora in più di esperienza perché comunque lui veniva da tanti anni di MotoGP Superbike Campione del mondo Moto2 Campione del mondo Moto2 poi magari ha preso l'anno giusto della Superbike America che dove tutto ha funzionato e c'è riuscito a vincerlo è stato bravo tutti i piloti quando vincono sono bravi bravi cioè pure quello che vince lo vale 110 monomarcia quindi ovviamente per ogni livello cioè per ogni momento hai il tuo livello il pilota è così quindi quando vinci sei stato più bravo degli altri in quel momento e quindi tutti i piloti che vincono sono estremamente bravi assolutamente fatto questo è il momento in cui appendi il casco al chiodo si in verità poi mi richiamo Aprilia io no 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 alla fine sì per sostituire l'Averti per sostituire l'Averti e ho fatto non mi ricordo se tre o quattro gare va bene perfetto insomma sono andato anche abbastanza bene alla fine alla fine dopo mi sento di lì che dopo quello sono riuscito a stare un po' sereno tranquillo sei riuscito a penderlo e sì anche se l'anno dopo poi mi chiamiamo un team che è ancora nel Mondiale Superbike anche un team importante per per fare la stagione per fare la stagione e dico dai io no grazie basta mi sto ritirando tu hai fatto la cosa interessante è questa se tu ti volevi tirare già da un po' sì e facevi fatica a ritirarti perché tutti non tutti chi aveva bisogno arrivano proposte comunque chi aveva bisogno sapevano che una delle mie peculiarità era quella di adattarmi velocemente quindi riuscivo riuscivo a mettermi su una moto e non fare ultimo cosa non facile nel Mondiale Superbike cioè nel senso ad oggi vedi vedi che chi viene nel Mondiale Superbike a fare cioè quando fai sesto o settimo stai a viaggiare veramente forte nel Mondiale Superbike i piloti vanno veloci le squadre sono del livello altissimo quindi infatti la gente non si rende conto dice ah quello è un pilota fa la World Car guarda hai visto arriva al Mondiale e fa ultimo non è così semplice la cosa poi dipende con chi lo fai ovviamente però mi sentirete di di non andare con con situazioni non semplici già a livello tecnico però non è sempre facile perché magari ti capita l'opportunità bisogna che vai hai sentito domenica scorsa domenica il round di Misano che ha corso Vitali se non sbaglio sono da Kawasaki di Piedercini no di Orelac di Orelac e sentivo che in realtà non ho capito se quella moto o un'altra moto era stata proposta a Giannini no quella era stata Puccetti ok Giannini è un pilota romano quindi è ovvio che io lo seguo da più vicino è un bravissimo ragazzo sta facendo benino anche se l'abbiamo visto fino adesso non l'abbiamo visto in categorie di spicco perché fa il national che è una categoria di tutto rispetto dove vanno velocissimo ma bisogna vederlo intanto nell'italiano superbike perché lì c'è già un pirro che è già il lago della bilancia e se te vuoi fare un qualcosa andare avanti devi battere lui cioè secondo me è il primo paletto vuoi andare avanti sei giovane sei bravo batti pirro poi parliamo che non è facile attenzione Michele è uno estremamente veloce ha un team alle spalle di livello ha un'esperienza incredibile quindi battere pirro non è proprio così scontato però dall'altra parte se vuoi andare avanti pirro incomincia a averci degli anni tu sei giovane sei baldo se vuoi andare avanti bisogna che batti o comunque te la giochi con pirro Giannini secondo me quell'esperienza l'avrebbe dovuta fare quella del mondiale? si ah vedi il mio consiglio era stato di andare e fare perché fai ultimo hai fatto il tuo dovere fai penultimo hai fatto bene soprattutto su quella moto là c'era stato Tom Sykes dove aveva fatto ben poco tanti ritiri non aveva mai preso i punti nel senso fare peggio di quello non potresti fare fare meglio sì e se avessi fatto meglio già facevi il tuo lavoro e questo volevo sapere appunto come pensavi cosa pensavi della decisione insomma anche perché un ragazzo giovane che corre ma chi te la dà l'opportunità sei scannato la verità è questa non me ne voglia nel senso come sono stato io come sono 99% esattamente non hai una grandissima forza economica alle spalle perché se c'avevi la forza economica già stavi nel mondiale superbike poi ti aveva pagato il posto quindi non hai la forza economica sei bravo c'è tutto da rimostrare sì magari quel team là in quel momento non c'ha la migliore moto a tanto non andavi a vincere non sta vincendo Jonathan con quella moto lì che è sei volte campione del mondo ripeto fai ultimo hai fatto quello che si aspettavano tutti quindi nessuno ti dirà ah sei una mezza sega fai penultimo sto ragazzo è bravo un'opportunità magari la gara dopo gliela ridai poi io non so quali sono le cose che sono successe dentro stavo per dire questo magari c'è uno degli obblighi contrattuali esattamente non mi permetto di poter giudicare però io quando quando mi era arrivata tu che faresti io ci andrei io ci andrei da ragazzino bisogna che fai anche quelle chiamiamolo passi sì ecco poi ti renderai conto ho fatto una stupidaggine o non ho fatto una stupidaggine a me tanto a casa tua ti aspettano certo non è che ti aspettano non lo so adesso se magari il team dell'italiano gli avrebbe messo dei veti o altre cose io questo non lo so o magari stiamo parlando del nulla cosmico perché magari c'è un contratto con BMW ufficiale che non lo poteva fare magari proprio di persino magari l'anno prossimo lo vedremo al posto di mandemarca insieme con toprac il team ufficiale certo questo non lo sappiamo questo non lo sappiamo però per le informazioni che abbiamo insomma tu eri a Misano ovviamente beh io il mio team io il mio team che corre nel mondiale superbike siamo nel mondiale superbike categoria nel mondiale superbike categoria super sport corriamo corro con il mio team corre con Ducati siamo abbiamo un buon supporto da Ducati ho un figlio d'arte incredibile perché con me corre Oliver Bailis figlio di di Troy e un altro ragazzo che viene da Moto3 Maximilian Koffler facciamo tutto il mondiale quindi sì assolutamente mi aggancio a questa aneddota per raccontare insomma vogliamo dire noi ci dovevamo vedere sabato scorso sì venerdì mi chiami e mi fai guardare che non posso venire perché c'ho Troy Bailis a pranzo a casa sì esattamente e io lì per lì non sapevo se dirti vieni con Troy oppure farsi una risata perché una cosa che una persona normalmente non si aspetta e come è nata l'idea di fare un team allora nasce nel 2019 quindi un po' di anni fa ormai 2018 io mi fermo non riesco a stare tanto proprio con le mani in mano quindi nasce l'idea di fare un team di stare di aiutare dei giovani a crescere di fare un po' quello che hanno fatto con me perché io sono stato un fortunato e ho ricevuto dei grandissimi aiuti nel mio percorso di crescita e quindi nasce per fare questo nasce nella categoria Moto3 gestisco per due anni il team ufficiale TM Racing che è una piccola casa italiana tanti di voi la conoscerete sicuramente e bellissimo bellissima esperienza Moto3 Civ e Junior World Champion che sarebbe il CEV il campionato spagnolo si esattamente con dei piloti comunque di spicco Kevin Zannoni Carraro e altri piloti che sono poi Vicente Perez sono piloti di un certo spessore di un certo livello però io ero un po' un pesce fuor d'acqua perché la Moto3 per quanto moto Moto3 quindi parte MotoGP e Superbike sono due mondi completamente diversi dei fornitori che stanno in Moto3 MotoGP Moto2 non sono nella parte della Superbike e viceversa le persone che sono in un paddock non sono nell'altro quindi per me è molto più facile collocare avere rapporti con la parte della Superbike quindi 2019-2020 facciamo questo i ragazzini comunque crescono abbiamo fatto bellissimi anni abbiamo vinto un campionato italiano come team per cui meraviglioso anni bellissimi quando poi decido di passare al mio mondo quindi quello delle super sportive le derivate di serie facciamo il primo anno con Yamaha perché Ducati ancora non aveva l'omologazione cioè non c'era ancora la categoria next generation perché io volevo arrivare ovviamente a correre con Ducati e quindi facciamo il primo anno dei Civ nell'italiano con Yamaha di team Yamaha ce n'erano veramente tanti e sarei stato uno dei tanti con Ducati invece ho un buonissimo rapporto non abbiamo avuto assolutamente nessun tipo di problema ma durante i miei anni quindi quando io ho il salomato io vorrei fare questo mi hanno aperto le porte mi hanno dato un buon supporto e siamo siamo qui abbiamo fatto 2021 2022 è stato un anno un po' di rodaggio di passaggio anche mettere insieme la moto e soprattutto i team Ducati non sono team normali perché correre con Ducati ti porta a una preparazione a un tipo di budget una serie di situazioni che è un po' diverso anche per la super sport però ti dà una grandissima visibilità perché quando sei un team Ducati è un po' diverso che essere un team di un altro marchio certo e mi come proprio come emozione come passione per quanto vuoi io sono stato un pilota Ducati e sono rimasto Ducatista poi il lavoro mi può portare ovunque però nel mio cuore dopo tanti anni con Ducati ovviamente la passione c'è quest'anno fate il mondiale quindi super sport hai detto con Bayliss sì quindi hai comunque un personaggio vorrei dire ingombrante anche se credo Troy non lo sia come persona è una leggenda sai quando parli di leggende è diverso quando parli di campioni del mondo no io sono stato un pilota lui è stato un campione la differenza quando anche antipaticamente Jorg ha detto tu sei un pilota io sono un campione la differenza c'è c'è poco da fa c'è uno che vince dei mondiali è un campione per tanti anni in anni diversi è una cosa uno che come me che ha fatto una bellissima carriera è stato bravissimo velocissimo ma io sono stato un gran pilota mettiamola così me li metto grande perché so io perché ma certo e perché non posso dire diversamente però è la realtà dei fatti però è la realtà dei fatti ci sta una gerarchia è normale che ci sia come in tutte le cose c'è sta il piccolo imprenditore il imprenditore medio è quello che fa l'azienda da 500 persone 1000 persone 3000 persone rispetto a chi ha un dipendente a chi ha tre dipendenti non ti puoi mettere solo se sei imprenditore fai lo stesso lavoro ma quello c'è una cosa e tu ce n'è un'altra io infatti ho sempre diviso i piloti in tre categorie banalmente il pilota che non ha mai vinto una gara di mondiale parliamo il pilota che ha vinto una o più gare di mondiale e i campioni o i fuoriclasse cominciamo la parola diversi esattamente e Troy Belis forse supera anche la categoria è leggenda è leggenda lei stai su leggenda si va oltre esattamente tu c'hai corso insieme a Troy? no no ti ha sostituito però ma ha sostituito una volta grande ritorno del 2015 sì 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 questo è un po' un peccato immagino non un ramarico però insomma penso perché però sarebbe stato bello avercelo avuto sì imparare sicuramente sicuramente sarebbe stato bello perché era un motociclismo leggermente diverso a quello che che poi che ho vissuto io e che adesso è ancora diverso perché è già cambiato il mondo del motociclismo è in sviluppo sempre e quindi tutto cambia però era un motociclismo diverso magari per alcuni nostalgici ma non ci stanno più i piloti adesso mi mi fermano nel paddock guarda che te ci stanno più i piloti come te ragazzi mi dico fermi fermi meno male perché oggi abbiamo un bautista noi abbiamo altri piloti che sono bravissimi molto più di me magari saranno meno spettacolari meno passionali quello che te pare ma quelli vincano le gare ed è quello l'importante per l'azienda per lo sponsor per tutto quanto perché quando uno dice vedi il pilota ha vinto la gara dire una vittoria di una gara c'è un lavoro enorme incredibile io direi che i piloti dovrebbero fare prima i team manager che i piloti ma più che ti manca il magazziniere andrebbe bene cioè tu dovresti prendere un pilota portarlo al mondiale e farlo stare un mesetto dentro un reparto forse per fargli capire quanto è difficile trovare l'economia quanto è difficile trovare i pezzi quanto è difficile scegliere un partner rispetto a un altro quanto è difficile mettere insieme le persone e farle lavorare nella squadra quanto è difficile fare una coppia di meccanici che per loro per un pilota sono solo i suoi due meccanici ma far lavorare insieme quelle due persone è estremamente complicato perché quelle sono due persone ma devono andare parallele perché se non lavorano nella giusta maniera e bene insieme si fa una fatica incredibile per questo è normale sono persone siamo tutti persone io posso averci in antipatia per altro perché quando si sveglia la mattina non lo so si tocca l'occhio e a me mi dà fastidio che uno quando si sveglia la mattina si tocca l'occhio quindi sai è difficile creare una squadra armonica e questo lo stai scoprendo adesso sì l'ho scoperto da qualche anno ogni anno cerco di migliorare alcune cose o la mia fortuna è che ho preso dei ragazzi all'inizio del mio team e li sto portando avanti la mia squadra è quasi sempre la stessa perché credo che nella continuità tra l'altro c'è pure dei ragazzi che io ho conosciuto quando gli ho dato una mano all'epoca che vengono dal reparto corse dell'università la sapienza assolutamente sì io li ho presi quasi tutti dall'università perché avevo questa voglia di aiutare il giovane cioè nel senso intanto nel nostro mondo al giovane non gli danno l'opportunità la verità è questa perché se te già non sei bravo non te la danno l'opportunità perché mettere mano su una moto da svariati migliaia di euro a un ragazzino giovane insomma non tutti si prendono la responsabilità di questo ma io dall'altra parte ho pensato sicuramente mi faranno qualche danno e me l'hanno fatti non puoi non pensare che non succede ma quello che mi hanno dato a livello di visione è diversa di una persona che magari ha 50 anni 55 anni per quanto la sua esperienza è oltre imparagonabile ma quello che ti può dare un ragazzino un ragazzo cioè possiamo parlare di un laureato non stai a parlare di un bambino però con la sua visione con la sua voglia di fare e di crescere che è decisamente diversa cioè io c'hanno proprio la gioia di venire a lavorare di fare cose di sviluppare delle volte ti devi fermare che dici no fermi questa è fantascienza fra un po' però è bello anche quello però è bello anche quello io l'ho conosciuto il primo anno che era uscita la biga la biga ho avuto anche la fortuna di provarla io penso era una fortuna secondo te no io li prendo in giro io li prendo in giro perché secondo me quella è una sfortuna allora quella prima io parlo della prima moto dico fortuna di provarla ma era molto complicato diciamo sì io li prendo però se tu pensi ad oggi è una follia pensare di partire da zero oppure questi cioè con 15.000 lire esatto con lo scotch esattamente e fa una moto no no è roba cioè io ho detto ci siete riusciti cioè la moto siete riusciti a mandarla dritta andata dritta sì sì hanno vinto pure la gara lì la moto student quindi sono stati bravi poco da fare tu non l'hai provata quella no io ancora voglia di vivere eravamo a latina in una condizione no ma scherzo la moto poi è stata una moto sicura assolutamente poi ripeto ha vinto la competizione internazionale dell'università quindi hanno fatto un lavoro incredibile io li prendo in giro perché sì è tutto vero guarda nel senso fare quelle moto lì con pochi soldi è ammirabile anche se ne mette un po' paura assolutamente però sono stati molto bravi sì anche magari se qualcuno delle università sente questo nostro podcast se gli danno una mano in più è meglio perché a Torino Milano Bologna o Spagna le università si impegnano tantissimo nel fare nell'aiutare questi ragazzi la Sapienza lo fa molto attivamente con la macchina perché sono tanti anni e lì investono loro veramente e le macchine peraltro credo che loro sono il leader in contrasto sì 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 assolutamente si aiutano anche le moto perché comunque c'è l'ingegnere che gli piacciono le quattro ruote l'ingegnere che gli piacciono le due ruote quindi secondo me dovrebbe essere bilanciata la cosa però è un piccolo appello che facciamo con questi ragazzi almeno quando vengono a lavorare nelle corse sono un po' più pronti per questo se dovesse sentire qualcuno dell'università qualcuno che ha spessore comunque stiamo parlando di un argomento che comunque dà attenzione nel mondo delle corse tu non lo conosci soltanto perché hai i ragazzi che vengono da lì anzi tu hai preso quei ragazzi perché venivano da lì io ho preso quei ragazzi perché allora se io dovessi prendere un ingegnere meccanico o un ingegnere elettronico che va benissimo ma se non si appassionano le corse il nostro mondo tutto il mondo patato d'oro e quant'altro il nostro mondo se non lo conosci cioè noi arriviamo il mercoledì in circuito e lavori dalla mattina alle 6 alla sera della domenica alla sera alle mezzanotte luna non ci stanno rari i lavori 20 22 ore al giorno quindi se non c'è un minimo di passione che ti spinge non lo fai per soldi perché i soldi sì sono una parte che ci sta ma non è che tu guadagni per quello che lavori assolutamente perché solo a guadagnare quello che uno dovrebbe guadagnare per le ore che fai non è pensabile non è pensabile poi tu vieni da un altro motociclismo passami il termine che è il motociclismo che ho frequentato anche io i motori che rodano alle 2 di notte alle 3 di notte e quelli sono meccanici che stanno lavorando esattamente quando senti una moto a mezzanotte e mezza luna significa che un meccanico l'ha montata fino a mezzanotte e mezza ma sta in piedi in rally 6 esattamente e attenzione con la massima attenzione cioè con la massima attenzione su quello che stai facendo non puoi sbagliare nulla su quella moto lì c'è un pilota che può essere giovane che può essere il tuo figlio che può essere qualsiasi cosa ma ci deve il massimo di attenzione perché se si svira una vita quello si fa male e non va bene e non deve succedere io gli ho sempre detto ai ragazzi e ai miei ragazzi nella mia squadra a me non mi interessa se perdiamo un turno ma ogni volta che la moto entra in pista voi dovete essere sicuri che tutto che tutto è avvitato poi il motore si può rompere la parte meccanica come parte meccanica può avere dei cedimenti ma che un pilota cade perché un mio meccanico un meccanico che lavora con me nella squadra si è scordato una via lenta non me la perdonerei non me lo perdonerei perché significa che l'ho fatti lavorare male e male non gli ho saputo trapassare quello che penso della sicurezza che è la cosa fondamentale soprattutto per chi viene dalla pista per i piloti tu avevi un idolo quando eri ragazzino un pilota che ti ha segnato a livello sentimentale di testa beh io ho corso sempre col 34 quindi quindi la risposta quindi Svans si è stato assolutamente lui il mio idolo e la persona che il pilota che anche se alla fine ha smesso di correre quando quando io ero molto piccolo ma ho visto le sue cassette fino all'altro ieri quindi ti ricordi un momento proprio un fatto un qualcosa che ti ha fatto dire questo è il pilota che che vorrei essere ma è stato è stato piano piano allora il discorso di Kevin Svans ovviamente piaceva a mio papà però all'epoca c'erano tanti piloti che erano piloti Svans lo so degli americani c'è gente che veramente c'era un pelo incredibile sulla moto ci dobbiamo andare però Svans è stato sempre quello che ha vinto pure lui niente in confronto al suo talento però era quello che quando lo vedevi in pista bello infatti ci si chiede come tantissimi ragazzini nati negli anni 90 che frequentano il mondo si chiamano Kevin non è caso ed è curioso appunto perché un pilota che ha vinto un mondiale se non sbaglio un mondiale è un po' come nel 93 è un mondiale però è rimasto è quella quell'allone di magia con Suzuki la moto era un po' un po' così e vincere quando vinci quella roba lì è meraviglioso possiamo dire un po' come ha fatto Stoner sì assolutamente assolutamente Svans è stato diciamo Stoner è stato lo Svans degli anni dopo sì sì assolutamente vincere con Ducati che in quel momento non è la Ducati di oggi non è la Ducati di Gigi della linea perché oggi non dico chiunque ma tanti piloti vincono con questa Resmo 16 qua tanti piloti ovviamente del livello altissimo che poi paragona Bagnaia a un altro pilota in questo momento Bagnaia è il pilota più forte che c'è ma dall'altra parte c'è Bezzecchi che può vincere Martina che vince c'è Bezzecchi che vince Martina che vince Zarco che ci va vicino Marini che ogni tanto potrebbe vincere c'è tanti piloti Marquez che fa delle bellissime testazioni aspettiamo Diggia che è il nostro romano quindi dai e Diggia dai e Fabio abbiamo bisogno di un ragazzo romano che fa i stessi risultati degli altri Ducati perché sono passati vent'anni dall'ultimo romano che vinceva Max secondo me un altro che leggenda tu lo conosci bene sì sì non avete corso insieme vi siano incrociati abbiamo corso insieme sì nel 2012 sì io penso che per chi è della nostra età trovarsi in pista con tutti i grandi piloti mi puoi dir ria mi puoi dire chiunque ma Max Biaggi ma lì lì rigiri nella nella leggenda e soprattutto attenzione Biaggi insieme a Valentino sono stati quelli che hanno fatto conoscere il nostro mondo perché bello Svanze bello Reni bello Gardner bello Rosen bello tutto ma le moto le vedevano in tre questa realtà è vero Valentino Rossi Max Biaggi le moto l'hanno cominciato a vedere il grande pubblico e loro hanno creato questa rivalità che grazie a loro poi il motociclismo ha appassionato tutti quindi questo è bellissimo ma infatti fino a qualche anno fa magari adesso la nonna che conosceva Biaggi o Valentino Rossi adesso non sto paragonando i piloti però qualsiasi nome della MotoGP ma adesso si ricrea ci sono dei filoni ci sono dei momenti adesso abbiamo la fortuna di averci dei piloti velocissimi magari un po' meno con un carattere insomma un pochino meno spettacolare ma poi oggi c'è anche questo buonismo ma tanto siamo chiudere che siamo tocco due argomenti hai fatto bene a dirmi tocchiamo due argomenti oh vai ad oggi abbiamo anche questa buonismo no? cioè i piloti devono essere tutti amici questo politically correct che si utilizza che va bene bellissimo dopo un po' forse stanca anche un pochettino cioè l'appassionato vede lo sportivo e deve vedere la sua cazzimma la sua grinta la sua voglia di andare avanti all'altro e quando vai avanti all'altro l'altro non può essere contento gli deve ruoter il culo cioè in questa realtà tipo un po' di razzi bello bravo bello dai hai vinto te dai siamo amici no hai vinto te sei stato bravo la prossima volta d'asfalto cioè hai capito d'asfalto in maniera sportiva può essere colpa dei social secondo te questa colpa è il grande attenzione non colpa in quanto colpa però il fatto che comunque rispetto ai tempi di Biaggi di Rossi il giudizio continuo che adesso da chiunque ma ok oggi il grande dibattito ai social noi dobbiamo ai social tante grazie perché ci hanno dato l'opportunità di far vedere il nostro mondo qualsiasi mondo al grande pubblico quindi oggi basta un click e tu sei dentro in quel mondo e questo è buonissimo è buonissimo soprattutto io oggi lo dico da imprenditore da team manager per me vendere oggi il mio progetto è più facile grazie ai social certo dall'altra parte i ragazzi devono capire che non possono piacere a tutti e non devono piacere a tutti perché se piace a tutti sei falso e questo non va bene piacere a tutti probabilmente è questo quello che è lo sbagliato cioè i social ti aiutano ma poi non piacere certo non è obbligatorio non è obbligatorio piacere cioè io oggi sto qui con te probabilmente qualcuno che ci vedrà dirà madonna questo quanto mi sta sulle palle magari anche anche di me capisci mi sta proprio questo non fa le domande giuste io avrei fatto questa domanda e qualcuno dice ma perché guarda questo è uno stupido uno sbruffone non lo so può pensare a mille cose o magari tanti dicono vedi che bella intervista che è uscita magari una cosa non sapevo la vede con con piacere non puoi piacere a tutti e oggi invece sui social devi piacere a tutti ci devi avere il grande pubblico il 600 il milione di persone che ti segui perché quel milione di persone la tua come si chiama la tua community poi ci deve essere quello che sui social si mettono con altro cioè tutte queste cose che va benissimo però devono un po' essere gestiti nella giusta maniera e non ci deve essere la cattiveria la cattiveria è veramente l'uno nei confronti degli altri perché questo studio social porta male a tutti porta male a me che magari delle volte mi posso esprimere male nei confronti della persona quella persona che ha la sua community non si rende conto che magari viene da me la sua community a infangare me la mia famiglia io ho visto delle cose veramente becere becere e probabilmente questo a vis a vis non succede esatto e quindi dobbiamo ritornare tutti che quel nome quella foto su qualsiasi social stai parlando con una persona dietro nel bene o nel male nel bene o nel male ci vuole rispetto e questo è un grande insegnamento prima o poi secondo me stiamo raggiungendo un apice perché comunque i social a questo utilizzo ci sono da 10-15 anni raggiungeremo questa apice e mi auguro che poi ci sia un allineamento con la realtà sì perché il mondo social è fuori dalla realtà no no è una realtà è una delle realtà però non è la realtà no però cioè sai secondo me dobbiamo solo capire una cosa che tutti noi facciamo vedere delle bellissime cose sui social che non rispecchia per non rispecchia totalmente la realtà dei fatti perché io sui social non faccio vedere che ho l'unghia carnita certo e sui social faccio vedere che ho una magliettina carina certo ok quindi il brutto è sempre un po' nascosto quando in verità le cose faticose nella vita esistono quindi e poi non dobbiamo far passare perché ad oggi e questo è un concetto un po' un po' difficile da far capire però secondo me è importante ad oggi ci stanno tante persone che fanno della non della normalità ma della mediocrità il punto focale no perché io racconto che ho provato a fare partendo da zero non lo so un paio di scarpe e non ci sono riuscito e tutti dai sei forte no questo messaggio secondo me non deve passare questo messaggio cioè deve passare che tu avevi una passione nel fare le scarpe hai provato a fare scarpe ci hai provato al 100% e hai fatto una scarpa brutta e tutti ti possono dire hai fatto una scarpa brutta ma non deve passare il concetto che dice no io ho provato a fare questo non ci sono riuscito diventi famoso perché alla fine di conti insebona fa niente e tante persone oggi stanno diventando famose senza saper fare niente e questo è un po' il brutto dei soci cioè se mi permetto di dire va benissimo diventare famosi in qualcosa e più persone di successo abbiamo più la nostra popolazione sarà una popolazione benestante perché persone di successo una persona di successo può dar lavoro a tante persone genera posti di lavoro genera posti di lavoro quindi benissimo più persone di successo abbiamo ben venga però deve essere un po' più di qualità eccellete in qualcosa eh sì fare qualcosa non faccio una stupidaggine diventa cioè oggi la legge dei grandi numeri preme a questa no? è vero benissimo però in questo io dico solo una cosa impegnare a fare qualcosa di vero che le persone poi possono sfruttare un insegnamento un video un tutorial qualsiasi cosa fa un paio di scarpe i lacci crea l'uncinetto cioè fate fate però non non scadiamo nella mediocrità perché quello non va bene mi sembra un'ottima un'ottima fotografia della situazione no poi magari mi sbaglio ognuno però è giusto che abbia la propria la propria la mia visione è questa io provo a a fare del mio meglio e a fare qualcosa e questa è la cosa più bella e non avete paura di sbagliare perché solo chi non fa niente non sbaglia esattamente ultima domanda per passare da un argomento all'altro hai mai provato una moto gp no e questo può essere non un rimpianto perché non è che hai detto di no a una circostanza maggio che la curiosità l'avrai avuta tantissimo ma il mio mondo era il mondo delle super bike e quindi non c'è stata neanche l'opportunità assolutamente bellissime le moto gp ma sono sicuro che i piloti della moto gp devono fare i piloti della moto gp sono due categorie diverse molto più di quello che la gente possa pensare ma 100% due sport assolutamente tanti piloti possono passare dalla moto gp alla sua air bike è un po' più difficile il contrario il contrario è difficile ma non perché quelli sono piloti più più bravi ma perché l'approccio che devi avere in moto gp è completamente un approccio diverso e poi magari sono anche più bravi non lo so questo non sta a me dirlo però ricordiamoci che max ci ha messo un po' di tempo per vincere carlos ci ha messo un po' di tempo per vincere tanti piloti dalla moto gp alla super bike non si sono sopportati proprio da casa lo stesso bautista non è che è venuto e ha vinto cioè stava per vincere poi è successo qualcosa per il quale non ha funzionato però non diciamo che i piloti super bike sono meno di quelli sui moto gp sicuramente quelli moto gp sono preparati in maniera differente in maniera differente ecco probabilmente la preparazione che hanno grazie a tutti gli anni le scalette che fanno moto 3 moto 2 moto gp arrivare in moto gp la preparazione che hanno è una preparazione superiore questo sta a noi team a far crescere ragazzi come devono capire la differenza certo senti arrivati a questo punto io ti ringrazio più che altro di averci di esserti aperto a raccontare quelle che sono state le difficoltà e le debolezze di una persona di un essere umano che altrimenti dice vieni con la tuta il casco e mi racconti quante vittorie hai fatto quanti pole quanto giri a Valle Lunga o dove dove sia noi abbiamo voluto raccontare Davide non Davide Giuliano tu oggi sei Davide di questo ti ringrazio perché come tu hai detto sapere che appunto quelli che noi consideriamo supereroi chi più chi meno sono in prime sede delle persone con le loro debolezze e le loro debolezze gli hanno permesso di raggiungere anche grandi risultati quindi la gente non deve avere paura di essere meno di altri non deve pensare che quello che è arrivato perché noi vediamo solo la fotografia della cima ma sopra la cima c'è tutta una scalata da fare ed è dura per tutti chi ci riesce o non ci riesce l'importante è come ci hai detto di non avere rimpianti fare del proprio meglio e dove si arriva dà il 100% tutto quello che fai e dove si arriva si arriva metti il segno come si soldi esattamente metti la bandierina come orga esattamente dove arrivi metti il segno però impegno 100% e quello è quello che premia grazie Davide ciao grazie a voi ciao grazie per aver seguito questa puntata di Razers se ti è piaciuta e vuoi ascoltarne altre puoi iscriverti al canale youtube o seguire questo podcast sulla tua piattaforma preferita per non perderti i prossimi episodi a presto